Grazie a tutti. Grazie di cuore al comitato. Prima di passare ai lavori voglio anche dare la solidarietà al sindaco di Camerota per qualche minaccia che ha ricevuto questi ultimi giorni. Voglio ringraziare anche la presenza dell'assessore Feola della provincia, nonché di consiglieri provinciali Pirlo, Spinelli e Variante. Nonché il consigliere dell'Andeparco, Garoni, Palmafe o Ricchio, non dimentico nessuno. A breve dovrebbero arrivare sia il Presidente che il Vice Presidente dell'Andeparco. Chiaramente mi sono tutto affettuoso ai voti di sindaci e ai presidenti della comunità montagna che vedono così meroso come ormai. Quindi veramente dobbiamo rallegarci di questa viva partecipazione. Sta arrivando anche i sindaci di Comigliano e Castelluo. Quindi veramente una forte presenza di sindaci. Per darlo spazio anche agli altri che sono in arrivo, propongo all'Assemblea di fare l'inversione del giorno e quando riguarda due punti successivi. Questa del bilancio di previsione e esercizio finanziario del 2012, che è solitamente un barriere, e la terza variazione di bilancio di previsione e esercizio finanziario del 2012, che è solitamente un barriere. Chiesemol, sponci questi due brevi, chiamiamo il... anzi un attimo, chiedo scopriva di passare, chiedeva anzi, chiedeva quasi per scontato con il fatto di parlare dopo il saluto, diciamo ufficiale, perché i 15 ospiti, dobbiamo ringraziarlo perché ha dato subito la sua collaborazione, ma a caso tutta la giunta, tutta l'amministrazione comunale ci ha accorto, veramente dobbiamo dire a braccia aperte. E quindi il saluto istituzionale è al sindaco del Gallo. Buonasera a tutti, grazie per questa numerosissima partecipazione. Siamo all'attesa del Presidente del Parco e quindi praticamente iniziamo comunque questa assemblea. Io farò solamente un breve recente di saluto. Saluto e ringrazio il Presidente del Parco Nazione del Cinello che sta per arrivare, che per la prima volta onora la comunità di Montano Antiglia e la sua presenza. Così come saluto il Direttore del Parco, il Cinello Angelo De Vita, che ugualmente abbiamo il colore di piacere di ospitare. Saluto i consiglieri provinciali, l'assessore Feola, i sindaci e gli amministratori presenti. Ringrazio le forze dell'ordine che costantemente ponavano la nostra amministrazione. Un saluto e un ringraziamento particolare però non mi sia consentito. Lo debo al Vice Presidente della Comunità del Parco, nonché sindaco di Stena Cimento, l'amico Antonio Radana, che ha voluto onorare questo Comune convocando qui questa importantissima riunione in un delicatissimo passaggio storico di questo territorio. Cari amici e colleghi, vedete, Montano Antiglia è un paese di gente mite, laboriosa, onesta e paziente, proprio come il Presidente della Comunità del Parco, che in persona è in pieno il Cinentano d'Occo. Montano Antiglia è anche il Comune posto alla maggiore latitudine dell'intero territorio del Parco, così come anche uno dei borghi protagonisti della famosa rivolta del 1828. Sulle vette bosche alle spalle di questo paese si riunivano il sacerdote De Luca e i suoi lepidi. Qui, alle spalle di questo edificio, l'Alessandrina Tampasco uciva le coccarde bianche, segno identificativo dei rivoltosi. Sul promontorio che si innalza sopra il Montano Antiglia sono ancora visibili, i segni di quella appassionante pagina della nostra storia, a cui ci sentiamo particolarmente legati e della quale siamo particolarmente orgogliosi. Ma ritorniamo ad oggi. Ritorniamo ai lavori che ci vedono impegnati. Dal 4 di ottobre, chi vi parla ha impegnato la sua mente, non solo essa, alla soluzione di un evento che minacciava il suo territorio e il nostro territorio. Con molti sindaci ci siamo confrontati e con essi abbiamo ripreso e completato un vecchio studio del parco elaborato dal dottor Enzo Chiera per la gestione autonoma dei rifiuti in area parco. Le vicende della fiscalica di Laurito sono note a tutti. Quello che non è noto e che ritengo doveroso che si sappia è che ogni amministratore di questo territorio, nessuno escluso, ha lavorato per la soluzione del problema che ingombeva e forse ancora ingombe sulle nostre comunità. Finalmente abbiamo ragionato e continuiamo a ragionare come territorio, spogliandoci delle casacche di appartenenza politica. Lo dicevo stamani a toni literale al telefono. I cittadini ragionano da cittadini e si comportano da cittadini. Sentono i problemi, protestano come il normale che sia. In alcuni casi poi, in particolare sensibilità, prospettano agli amministratori soluzioni. L'amministratore invece no. L'amministratore, di fronte al problema che investe il suo mandato, deve solo per un attimo opporre le sue resistenze. Subito dopo, ha l'obbligo di cercare la soluzione. La migliore soluzione possibile per il tempo e il contesto storico in cui opera. E' quello che ognuno di noi ha fatto. Abbiamo costruito, pietra su pietra, una soluzione al problema che attraversa il vostro tempo. Ci siamo confrontati e riconfrontati. Oggi siamo qui, chiamati ad esprimere il nostro voto, che sarà anche occasione per misurare il grado di coesione di noi altri. Perché vedete, cari amici, tante e tutte le soluzioni possono essere in astratto valide. Tuttavia, la soluzione percorribile è solo quella che si innesta in un contesto normativo e legislativo corretto. La soluzione è che sia quindi valida sotto un profilo giuridico, tecnico, scientifico ed economico. La nostra proposta a tutti questi requisiti è in aggiunta a tutto questo, se sarà approvata dagli organi superiori, ed io ho fondati motivi per ritenere che sarà approvata, consiglierà di abbattere la bolletta dei rifiuti del 30% ed oltre. Creerà occupazione, perché tutto ciò che noi oggi non facciamo nel nostro territorio, ci sono altri che lo fanno e per farciò lavorano e si pagano. Faremo ambiente, perché quando verranno i mesi estivi sulle strade delle nostre coste e compariranno i cumuli di rifiuti, avremo impianti adeguati per poter ricevere, selezionare e ricicare. Qualcuno potrà obiettarmi, cosa accadrà se la nostra proposta non sarà recepita? Rispondo subito, da Cilentano e da Montanese, erede di quei signori del 1828 di cui prima vi dicevo. Ebbene, vi dico che se questa, per qualche stoltezza mentale, la nostra proposta non sarà recepita, pur cosciente delle insormontabili prescrizioni scaturente dal piano parco, in virtù del quale vi è necessità di un piano di settore, ovvero di un piano di rifiuti, deliberato dal parco stesso, dicevo, pur cosciente di ciò, proponrò, anzi propongo. Mi dispiace che c'è l'assessore Feula qua, in rappresentanza della provincia. Propongo fin da adesso, ad ogni amministratore, l'adozione di una delibera consigliare con la quale chiediamo l'admissione del nostro Cilentro alla provincia di Potenza. Chiudendo definitivamente con i socclusi napoletani e salenitani. Non me ne vogliono i salenitani e i napoletani. Perché un'altra cosa deve essere chiara e un'altra cosa voglio dire. come comunità del parco, a Carondogno, è ora che iniziamo altre due battaglie di civiltà per questo territorio. La prima battaglia che dobbiamo fare è quella di questo inico sistema di ripartizione di risorse pubbliche. La ripartizione delle risorse pubbliche deve tener conto di due parametri a mio giudizio che sono popolazione e territorio. Il mio comune ha una frazione di 500 abitanti su 4-5 km2. A questi abitanti dobbiamo garantire strade, nominazione, fognature, servizi. A Napoli 500 abitanti sono in un solo stabile. Per cui due soli lampioni di pubblica nominazione soddisfano le esigenze di tutti. L'altra battaglia molto seria che dobbiamo da subito avviare riguarda la specificità del nostro territorio. Siamo parco, siamo parco per gli altri, non per noi, perché noi qui già vivevamo prima e prima di noi i nostri pari. Il parco ha creato tante condizioni negative che oggi, a distanza di 20 anni dalla sua istituzione, si riassumono in un solo dato che è sintomatico, lo spopolamento. Per cui chi dovrà continuare a vivere e costruire in questo territorio ha necessità di deloghe, anche per tutta una serie di servizi che sono venuti meno, poste, scuole, eccetera. In questo senso ritengo che bisogna chiedere una fiscalità di vantaggio per questo territorio e specificamente non me ne vogliono i grossi centri per chi vive, lavora e impianta la sua vita nei comuni interni inferiori a trevi abitanti. In ultimo, invito ogni sindaco, amministratore e consigliere provinciale a sostenere con convinzione questo progetto di autonomia non fosse altro che per il colore di questo progetto. Esso, infatti, guardate, non è né rosso, né nero, né bianco. Questo progetto ha il colore unico, cangiante e straordinario del nostro Cilento. Proprio quei colori che trovate meravigliosi e meravigliosi nelle immagini di queste foto appese ai muri di questa sala, gentilmente donate dal mio amico Michele. Vi ringrazio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alcune di queste richieste sono state già inoltrate sia alla Regione Campania che al Ministro dell'Ambito. Ora passiamo all'appello. Purtroppo un altro dovuto. Regione Campania? A se. Provincia di Salerno? A se. Assessore. Fai così. Comunità Mondana alburni? Comunità Mondana a Lento c'è il Presidente. Comunità Mondana a Bustento-Lampio c'è il Presidente. Comunità Mondana a Calori? Cervison? Comunità Mondana a Tanagro? Varo di Diano? C'è. Agropoli? Aguara? Ascea? Auletta? Bello Sguardo? Guardabitacolo? Camerota? Camerota? Cambora? Canna Longa? Sì. Capaccio? Casa Albuono? Casaletto Spartano? Casalberino? Sì. Casalibiteri? Castel Civita? Castel San Lorenzo? Castel Albati? Sì. Castel Nuovo? Sì. Cervi Polgherino? Sì. Cendola? Ceraso? Sì. Cicerale? Cervi. Delegato? Allora, Ceraso? Sì. Cicerale? Assente? Controle? Corredo? Convolte? Puccarapetri? Sì. Felitto? Putani? C'è il sindaco? Gioi? C'è il sindaco? Giugano? Assente? Laureano? C'è il sindaco? Laureano? C'è il sindaco? Laureano? C'è il sindaco? Crusto? C'è il delegato? Magliano? Amedeo? C'è il sindaco? Moetello? C'è il sindaco? Montano? Antiglio? Idem? Monte San Giacomo? Idem? Monte Corice? Montesano? Sulla Marcellana? Mori Gerati? Novi Vede? C'è il sindaco? Omignano? Omignano? C'è il sindaco? Ordio? C'è il sindaco? Contati? C'è il sindaco? Per di fumo? Delegato. Perito? C'è il sindaco? Petina? Piaggine? Pisciotta? Olla? Pollica? C'è il sindaco? Postiglione? Rocca D'Ascro? C'è il sindaco? Rocca Gloriosa? Ah, c'è il delegato di così? Deofrano c'è il sindaco? Oppure? O? Giuseppe? No, no, no. Ah, sì, scusate. Sacco c'è il sindaco? Salento? San Giovanni Appiro, delegato? San Mauro e Cilento? San Mauro la Bruca? San Pietro Altanaglio, San Rufu, San Angelo a Fasanella, San D'Arsegno, Santa Marina, Sanza, Sassano, Serra Mezzana, c'è il sindaco? Sessa, Siciliano degli Alburni, Sindaco Stia, Teggiano, Torna L'Orsaio, Tortorella, Sendinale, c'è il sindaco? Valle dell'Angelo e l'ultimo sindaco di Valle dell'Alocano. Poi ci sono agenti rappresentati, Albanella, Alfano, Altavilla, Altavilla, Silentina, Buccino, Caggiano, Contur, Sispano, Gliastro, Cilento, Padula, Pertosa, Vignano, Ruchino, San D'Arsegno, Salvi, Torchiara, Tortorella, che è il sindaco. Va bene, allora, dopo aver fatto questo elenco dei partecipanti a questa assemblea, come detto, abbiamo fatto di versione a Delogno del Giorgio, quindi passa questa assemblea, ci dà l'ok? Tutti d'accordo? Benissimo. Allora, passo la parola al direttore, saluto anche il commissario, il guidatore, il commissario del Giorgio. Mi avvicino qua perché se devo dare uno sguardo a qualche dato, anche se non vedo che sia un argomento di bellissimi interessi. L'approvazione del bilancio dell'ente parco, non perché non sia l'interesse, ma è la circostanza di quello che bisogna discutere. L'ente parco, l'ente pubblico economico è completamente diverso, ma così giusto rapidamente per capire come ci si muove da tutti quanti gli enti locali. Ha un'organizzazione, una gestione di tutte le risorse che è diversa. Noi viviamo, come pensavete, un'finanza trasferita al Ministero dell'Empire che anno per anno ci assegna, quasi sempre verso la fine dell'anno, quello che sono visto è l'anno del corso. Quindi sono un po' le alchimie che dobbiamo fare. Giusto per avere un'idea sul bilancio dell'ente, la previsione del trasferimento per il 2012, che poi ci verrà trasferito alla fine del 2012, è di 3.810.019. Per avere un'idea, da quando sono arrivato a fare il vittore del parco, è diminuito da 4.5 milioni al metro e 3.8 milioni al metro. Ogni anno ci diputa di un 10-15%. Sappiamo tutti quali sono le condizioni economiche. Sono la base di quello che il Ministero della Cicopunica, gli uffici ovviamente redicono il bilancio di previsione dell'Empire. Con cui noi cerchiamo di fare tutto. E basta sapere che per fortuna abbiamo una pianta organica che non è coperta al 100%. Per cui le spese del personale sono intorno al 40% del bilancio dell'Empire. Poi ci sono tutte le spese dell'Ordine, eccetera. Quindi riusciamo in qualche modo a gestire qualche piccola risorsa. Il parere della comunità del parco, la 394, è un parere pubblicatorio. Il bilancio dell'Empire l'ha fatto il 31 ottobre e il 31 ottobre, inviato da Pantale del Parco, che è la prima o passione di un'opera per la sua approvazione del parere. Non credo che ci sia da poter scendere nei... Se ci sono domande delle osservazioni, le domande specifiche siano a disposizione. Un parere pubblica poi non di volare, quindi deve essere fornito all'Università della Comunità per poter essere poi effettivo il bilancio dell'Empire. L'abbiamo approvato il primo di termine, il secondo novembre, quindi il 16 novembre, quindi poi l'abbiamo approvato il primo di termine dell'anno precedente, quindi non è bella, con i termini. Sai la... Sono interventi, sono passate, sono interventi? Allora, passiamo alla votazione. Parere favorevole o favorevole? Come il bilancio, anche le variazioni di bilancio, sono sottoposte al parere della Comunità dell'Arco, e siccome il Ministro dell'Ambilio ci trasferisce le risorse in corso d'opera, e ogni tanto il bazzisci ci trasferisce qualche risorsa in più, dobbiamo fare le variazioni di bilancio, e questa è la variazione che succediamo oggi. Quello deve... Un decreto di parte, che è venuto quasi a fine anno, c'è l'assegnato a 400 miliardi, che dobbiamo... prima di capire di bilancio. E quindi? E quindi anche questo... Ora, passiamo alla votazione, i contrari, Asterumi. ora passiamo all'argomento di cui siamo tutti stasera all'ordine del giorno il sistema di gestione dei rifiuti nell'area protente a questione di scarica di lavoro abbiamo fatto così forse un po' antecedente alle vicende che poi si sono susseguiti come sapete ciò che viene fatto almeno 10 giorni prima quindi siamo forse un po' in ritardo rispetto alla proposta che vorrà fatta prima di dire forse non mi sono dimenticato che non lo vedevo molto grande non mi sono dimenticato il sindaco di quello sguardo che è qui presente che mi saluto diciamo che prima di illustrare la proposta chiedo alla sempre se ci sono interventi preliminari a bene allora se vuoi mostrare la proposta allora passiamo a registrare la proposta e facciamo capire che cosa perché se dobbiamo esprimerci sulla stessa problematica che viviamo formalmente e informalmente si tratta soltanto di rispettive le posizioni che sono diverse allora se ci sono novità no hai ragione allora il caso di rispettivo ci hai ricordo molto per esempio ti ricordo che la volta scorsa era solo un discorso preliminare dove i sindaci si riunivano non voglio chiamare un consiglio che era una cosa più non voglio chiamare all'assemblea vera proprio della comunità del parco di cui c'è stato chiesto questo investimento da parte degli organi di situazione allora il sindaco di valore visto che è presente può illustrare la proposta io sono d'accordo con Cristoforo in effetti la proposta già bene o male la conosciamo perché già è stata un motivo di assemblea diciamo c'è solo qualche novità alla fine però voglio un attimino dire una cosa preliminarmente io devo registrare con positività quello che sta accadendo nel nostro territorio cioè una stagione realmente nuova non perché siamo noi i primi attori ma oggettivamente la registriamo una stagione istituzionale politica nuova in cui realmente c'è la voglia di lavorare insieme da parte delle istituzioni per trovare soluzioni sui grossi problemi e questo lo dobbiamo dire pubblicamente perché un fatto secondo me molto molto positivo una prova è stata il problema dei rifiuti noi ci stiamo lavorando, lo devono sapere anche i cittadini da molti mesi noi abbiamo provocato più volte la comunità del parco come ha detto Cristoforo che hanno questo problema mi ricordo anche Gerdino quante volte ha insistito sull'autonomia gestionale di questo territorio era un qualcosa a capire a cui stiamo lavorando da almeno 5-6 mesi non ricordo male e che poi ha assunto un'accelerazione certamente con il problema della discarica di l'auto noi abbiamo lavorato qualche tempo fa quando abbiamo fatto l'ultima riunione a Vallo un documento condiviso da tutti i sindaci presenti ma anche da chi non era presente in questo caso in questo caso chiedo scusa non lo voglio è arrivata ma è arrivata ma cerchiamo di trovare magari un posto chiedo al sindaco grazie grazie per poi non ringraziare onestamente il comitato che è nato intorno alla discarica di Laurito per la sensibilizzazione che ha fatto anche sul territorio per far conoscere anche a persone che erano lontane dalla politica lontani dalle istituzioni un problema serio quindi va riconosciuto un ruolo importante al comitato tutto quello che ha fatto in questo periodo dicevo da quel documento emergeva un ossecco e che è ribadito e sarà ribadito questa sera mi auguro alla discarica di Laurito assolutamente in questo territorio qua non vogliamo minimamente una discarica una mega discarica per noi di Laurito questo semplicemente perché non ci fidiamo di quello che può accadere di che gli infiuti ci possono portare in tale contesto per questo partendo da questo no abbiamo detto però non possiamo fermarci a un no deve essere un rol responsabile e quindi propositivo dobbiamo fare una proposta alternativa e insieme ai sindaci abbiamo elaborato una proposta che partiva uno in maniera molto schematica e molto indefica bastano pochi minuti per esporre questa proposta uno l'autogestione del territorio una gestione autonoma del territorio del Cilento che ha una peculiarità tutta sua è una zona barco è una zona del tutto diversa dalle aree metropolitane e che quindi ha delle modalità sia di raccolta sia di spazzamento del tutto diverse lo dicevamo anche con i sindaci uniti qui e stasera questa è la condizio sine qua non lo dico chiaramente anche qualunque proposta che possa venire dal comune di Vallo se non c'è l'autonomia gestionale non esiste minimamente non ci faremo gestire non ci faremo non ci faremo lo dico chiaramente non mi fido tutto quello che può accadere in maniera molto chiara non mi fido tutto quello che può accadere certamente non sottocorro la mia città come il Cilento spero tutti quanti voi siete d'accordo con questo punto di vista quindi da partendo da questa che è la premessa la condizio sine qua non noi dicevamo dobbiamo necessariamente recuperare il valore del rifiuto lo dico anche al comitato il rifiuto è un valore è una risorsa che può essere utilizzata per creare economia per creare occupazione sugli interi territori occidentali in altri paesi del nord Italia del nord Europa il rifiuto viene lavorato è il nuovo oro è il nuovo petrolio per questo noi non possiamo far sfuggire questa occasione dal territorio addirittura noi paghiamo per smaltire questo tipo di risorse quindi partendo da questo abbiamo detto noi dobbiamo creare un polo ecologico nel territorio che possa valorizzare il rifiuto e farlo diventare una risorsa uno con i piani di compostaggio il pallo da alcuni mesi era stato identificato di nuovo dalla provincia che avevamo perso purtroppo maldestramente negli anni scorsi un finanziamento era stato diciamo identificato come centro per un impianto di compostaggio noi già abbiamo la provincia è stata così veloce nel fare questo progetto che già è lo teniamo già noi in comune è un progetto realmente ambizioso che ci consente di lavorare l'organico e produrre oltre che il compost anche energia accanto a questo i nostri tecnici poi passerò la parola sia a Enzo Chira che ha lavorato il progetto sia a commissario a Mimmo del Gaud ancora non è arrivato Marcella Meclano che ha contribuito come presidente della Iega a elaborazione anche di questo progetto diceva avevamo pensato a un piccolo stir che cos'è un trito vagliatore come già sapete che può lavorare l'indifferenziato necessariamente il trito vagliatore ha bisogno di una zona di smaltimento del residuo perché quando si lavora il materiale all'interno del trito vagliatore viene fuori un residuo per cui abbiamo detto accanto a questo c'è bisogno di una zona che ci consenta questo smaltimento che non vada di là però delle 30 40.000 tonnellate tonnellate e infine scusate in quattro anni mi sono bagliato io a dire in quattro anni dei calcoli fatti ma saranno loro ad esporli in maniera più dettagliata e infine un potenzamento dell'impianto di selezione di pallo scato che ci consenta di poter selezionare in maniera più adeguata e più rapidamente in maniera tecnologicamente più adeguata e non manualmente tutto il resto del nome di fiume per trarre non lo ripeto sempre energia sempre economia da tutto questo accanto a questo ovviamente ci sono una serie di pratiche buone che è inutile menzionare che il documento ha elaborato tipo il rifiuto zero la riduzione della produzione dei rifiuti che sono una serie di cose che verranno nel tempo il potenziamento della raccolta differenziata perché bisogna portarla a metri un pochino più alte anche se il territorio occidentano come media è molto alto intorno al 60 65 per cento in alcuni casi quindi con valori realmente eccellenti anche rispetto all'intera provincia che Marcello tu lo sai molto bene tu sei figlio di Pezzaterra ma merita da altre parti una emergenza di frutti su territorio già si praticava una raccolta differenziata ottima a portare i livelli di raccolta differenziati in alcuni paesi addirittura al 70 80 per cento quindi voglio dire la sensibilizzazione della gente la gente da questo punto di vista ci sta aiutando è ottima ehm questo era quanto ehm la novità negli ultimi giorni che chiedeva Cristoforo è questa Vallo si candida a dire senti va bene facciamo facciamo questo polo ecologico a Vallo ci mettiamo a servizio dell'intera comunità anche avendo questo sito di smaltimento che non è una discarica ma un sito di smaltimento che non vada però al di là di quei quantitativi che vi ho detto unicamente per avere una sicurezza io non mi fido di quello che accade a Napoli a Caserta non mi fido di quello che può accadere in un momento di emergenza e non sottoporto a rischio la mia comunità la mia città come neanche assolutamente l'intero territorio quindi ehm accanto a questi a questo no secco alle medie discariche noi abbiamo ribadito in maniera responsabile una proposta che possa finalmente far uscire dall'emergenza questo territorio parto dal punto che ne sta io passerei adesso la parola ai tecnici che lavoreranno che non c'è nulla prima di passare la parola al Dottor Delgado io voglio veramente ringraziare ci ha detto il sindaco di Montano anche forse dell'ordine che la stampa è presente le tv e anche Don Aniello che è rappresentanza anche della Puglia quindi cerchiamo anche di essere personale quindi è una massima mi chiede la parola mi chiede la parola per l'assessore volevo solo dire una cosa dopo parlerà il Dottor del Gaudi chi era poi ci saranno gli interventi che quando mi colpete la parola e poi le conclusioni visto che anche se siamo le faremo non c'è la parola il presidente del parco diciamo il sì se voi detenete un po' più va bene? va bene questo ordine a parte poi ci passiamo e prego la sessore prima di farlo illustrare l'aspetto tecnico io credo che dobbiamo anche dobbiamo anche collocare questa proposta in un contesto che è meglio che ce lo chiariamo subito tutti perché altrimenti rischiamo di concentrarci troppo sulla proposta e poco sul quadro in cui si calda intanto dico il sindaco di montano vedi quello che tu hai detto di andare con potenza lo pensiamo anche noi tant'è che dopo la ignominiosa prolunga della corte costituzionale che ha detto che non possiamo fare la regione stiamo pensando di avanzare un referendum per andare con la regione basica detto questo però è un argomento cerchiamo di capirci cerchiamo di capirci cerchiamo di capirci su che cosa su quali sono state le ragioni che ci hanno portato oggi in questa situazione a discutere di quello di cui stiamo parlando perché altrimenti cerchiamo rischiamo di affrontare l'argomento solo dalla cura noi invece dobbiamo avere un contesto davanti perché oggi nel 2012 parliamo di discariche non dobbiamo parlare parliamo di discariche perché la provincia di Salerno è ancora più una regione campania hanno una carenza strutturale impiantistica che è paurosa lo diceva prima il signore di Vallo di compostaggio di Vallo delle Rocane era peraltro finanziato che adesso parliamo del progetto di finanzia finanziato non è stato realizzato e sono persi i finanziati per non dire dell'ingegneritore c'era un commissario governativo straordinario che ha fatto due gare tutte andate male ha sperperato circa non mi dico la cifra 13 milioni di euro per l'ingegneritore e non ha fatto quei poteri straordinari la provincia di Salerno governata da Ciri ha fatto la gara la gara è stata giudicata e è andato tutto bene i lavori inizieranno degli incendiari carenza strutturale dal punto di vista impiantistico sorridete l'ingegneritore ci vuole no 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 dopodiché siamo in questa situazione la differenziata dal 2008 la differenziata dal 2008 prima del 2008 ha riempito le discariche della provincia di Salerno che conoscete bene macchia soprana eccetera eccetera oggi dice che non vuole l'ingegneritore perché fa la differenziata però intanto intanto prima del 2008 ha riempito le discariche quindi scarsa attenzione alla differenza carenza impiantistica ci ritroviamo a dover parlare di discariche in questo quadro in questo quadro il nel 2011 ad aprile 2011 il presidente della regione campania con decreto ha nominato anzi a luglio 2011 ha nominato un commissario in virtù di un potere di una legge conferitoli dalla legge da una legge statale che diceva il presidente della regione campania deve nominare un commissario della realizzazione del discarico con poteri straordinari emergenziali eccetera eccetera ha nominato il commissario Bardet questo succedeva a luglio del 2011 nominato Bardet Bardet era incaricato dall'inizio di realizzare di realizzare una sola discarica nella provincia perché questo prevedeva la legge questo prevedeva il decreto perché poi fare una discarica con costo farne 10, 15, 5 quello di più ha un costo diverso ha un costo molto più elevato quindi fu nominato Bardet per realizzare la discarica il l'amministrazione provinciale che non c'entra nulla con le discariche perché il potere di realizzare le discariche in virtù della legge del decreto del presidente della regione è di un order commissariale che si chiama Bardet l'ha avvolto una legge dello Stato è fino a prova contraria la legge dello Stato si rispetta ha funzionato poco ha ancora funzionato dopo di che dopo di che era prevista una sola discarica che scamotaggio l'amministrazione provinciale ha detto a Bardet se vuoi la nostra il nostro appoggio politico attenzione se vuoi il nostro appoggio politico rivolto a Bardet non l'appoggio giuridico o di altro genere l'appoggio politico non devi realizzare una sola discarica perché è ingiusto che un solo territorio riceva i rifiuti di tutta la provincia deve realizzare almeno 4-5 discarica di modo che ciascun territorio ciascun comprensorio abbia una propria discarica la vendita però io non se la parlo più se non è ma io sono io sono io sono c'è rispetto per fare qualcosa della sindaca io allora io chiedo allora scusate vogliamo intenderci d'accordo questo è un incontro discorso una dei sindaci aperto e benvenga però ci divestino un rispetto per quello che stanno facendo i sindaci se ogni momento però dobbiamo sentire mormorì o altro tanto siete proprio voi perché se da qua stasera non esce una proposta seria siete proprio voi a navigare verso la discarica perché entro due giorni dobbiamo avere una proposta seria quindi fateci per favore lavorare ok però ogni momento essere interrotto commento altro se no io personalmente lo dico al presidente me ne va allora adesso però un attimo chiedo scusa dopo ti do la parola per un minuto adesso se vogliamo andare avanti se lo chiedo no lo chiedo io purtroppo io l'altro giorno ho abusato anche della vostra diciamo allora io l'altra sera l'altra mattina ho abusato anche della vostra ospitalità ho detto che anche vedevamo proprio dall'assemblea in quella diciamo anzi io chiedo chiaramente in modo più civile di portare avanti questa assemblea perché lo dico subito io desidero questa assemblea non sta a mettare nessuna posizione politica nelle varie posizioni politiche che poi sono state espresse il mio loro mi sembra di rifarlo in maniera limitosa ma soprattutto quindi chi poi deve replicare oppure quello che prende la parola di replicare chi sia lo può fare riparisco l'amministrazione ha già detto tu non puoi scaricare a fare in modo di fare uno solo di scarica che sarebbe davvero una mecca di scarica per far convogliare tutti i rifiuti dell'intera provincia devi far sì che ogni comprensorio abbia la riscarica dei propri rifiuti valdè aderisce a questa proposta e sulla base di studi dell'università individua quattro siti laurito calciano patti patti panni lo c'è si incomincia a lavorare su questi quattro siti sono stati redatti i quattro preliminari dall'università che sono stati consegnati a parte secondo passaggio dell'amministrazione provinciale perché sul giornale questo passaggio l'ho fatto io concedendo guarda vedi che sul giornale si continua a parlare esclusivamente di l'ordine noi per dare dimostrazione che c'è una procedura rispettosa di quello che abbiamo detto che un territorio non deve essere penalizzato rispetto ad altri e che ognuno deve avere la discarica del proprio ambito comprensoriale dobbiamo avere la garanzia che ci sia una simultaneità di predisposizione degli studi di realizzazione perché altrimenti è fischio è reale se viene realizzata la prima e sulle altre per ragioni burocratiche per ragioni finanziarie per qualunque tipo di ragione ci sono dei ritardi e si determina l'emergenza quella che è realizzata per prima sarà ovviamente e la discarica non della provincia probabilmente della regione non più di cinque giorni fa quando è uscito sulla stampa il fatto dei sondaggi eccetera eccetera ha fatto il provvedimento Bardet Cirielli ha chiamato Bardet e gli ha detto vedi che le cose così non vanno bene tu devi partire devi andare di pari passo su tutte e quattro i siti perché altrimenti ha laureato hanno ragione di protestare perché vedono che solo al Maurizio si va avanti dalle altre parti invece non si va avanti questo però è un intervento sempre sul piano politico ci sei vuoi che noi non interveniamo a criticare il cooperato sul piano politico devi ripartire il territorio fare più discariche in modo che ognuno abbia la propria discarica e devi farle andare avanti simultaneamente ma questo accadeva non più di cinque sei giorni fa due o tre giorni fa con il sindaco di Laurito e con i consiglieri Pierdo eviterà c'era il comitato che riordina la sicurezza convocato in prefettura perché ovviamente c'era un problema di ordine pubblico di occupazione dell'area qui a Laurito e in questi casi si riunisce un comitato che cerca di capire che saper evitare i problemi di ordine pubblico ci presentiamo vado io con Pasolino e con i due consiglieri provinciali il sindaco era già lì e quello che vi ho detto adesso io lo dico non lo testimonirò ma ho detto a Bardè al prefetto Vicario e al Presidente guardate state sbagliando ad andare avanti così andare avanti su Laurito con la forza perché è evidente che Laurito non la vicinità non la vogliono la discarica né a Laurito né da un'altra parte però non c'è nessun argomento se si va avanti a Laurito e dall'altra parte si sta fermo al contrario se si va dall'altra parte avanti cioè noi ci mettiamo ci facciamo la discarica ora sarà Laurito o da un'altra parte però è la nostra discarica e dall'altra parte si fanno le discariche degli altri territori cioè c'è un argomento magari non condivisibile perché chi non la vuole proprio non la vuole proprio però è una linea ragionevole aggiunsi in questa riunione sul comitato per l'ordine della sicurezza vedete che comunque non siamo usciti ancora in modo ufficiale però c'è una proposta alternativa alla discarica di Laurito sempre per l'ambito occidente stiamo parlando dell'ambito occidente disse al comitato è una proposta alternativa è una proposta alternativa che è immaturata perché attenzione ma stasera verrà illustrato però noi stiamo parlando da almeno due mesi per capire per far quadrare perché c'è una condizione specifica che ci vedete c'è un'area protetta ci sono piccoli comuni una viattività disaggevole un'orografia particolare eccetera eccetera e ci sono le ragioni per un ragionamento che è diverso dagli altri ambiti che avete individuato per cui sospendete fermate tutto perché uno bisogna andare avanti in modo simultaneo due dobbiamo avere la possibilità da parte degli organi istituzionali in questo caso la comunità del patto è l'organo sul piano politico di rappresentare una soluzione alternativa mi dietro ascolto nel comitato per ordine alla sicurezza e siamo qui stasera ovviamente io non ci metto loro aspettano però la proposta a parte l'ho sentito prima di venire qua ho detto io per me la soluzione alternativa va benissimo dobbiamo fare le verifiche tecniche la verifiche economica che è fuori importante mi ha detto di più se voi deliberate questa proposta alternativa con la individuazione dei suoi ma noi abbiamo chiamato già del giorno per dire le particende dove i sondaggi i sondaggi come si chiamano le prove che si dovevano fare all'audito e che erano state appaltate invece di farle all'audito la ditta la mandiamo nel nuovo sito a fare le verifiche sui suoni se vanno bene se non vanno bene e questa è la dimostrazione della più ampia disponibilità a ricevere la proposta ovviamente noi però non vogliamo solo che non si faccia la discarica all'audito vogliamo diceva bene il sindaco di val che si faccia il polo ecologico che deve essere sostenibile tecnicamente ed economicamente e vogliamo anche l'autonomia di gestione del ciclo dei rifiuti sull'omonomia diciamo che ci si poteva trincerare dietro un dato legislativo perché sappiamo tutti che la 26 dice che il ciclo dei rifiuti è gestito da una società provinciale cioè in linea teorica supera il modello consortile e dice che l'ha fatta è discutibile chiaramente la scelta però è una scelta del legislatore nazionale e anche regionale ma dobbia fare una società provinciale che gestisca il ciclo dei rifiuti è chiaro che io neanche la condivido e la raccolta secondo me è una cosa assolutamente irragionevole farla con la società provinciale eccetera eccetera rispetto al fatto che comunque è un argomento non condivisibile ma forte perché fondato su un dato il norma legislativo se non viene cambiato è difficile Concentieri un mese fa mi ha detto vedete voi va bene io capisco le ragioni del Cilento e che può avere una sua autonomia deve avere una sua autonomia il Cilento come è stato fatto per l'acqua come non è stato fatto per la sanità eccetera eccetera però tenete conto che non potete prescindere da alcune cose di chiedere l'autonomia uno che uno che uno che il personale del consorzio ve lo dovete mettere il consorzio sa quattro vi dovete prendere il personale noi ragioniamo con chiarezza mi sono riuscita quali sono i ragionamenti che ovviamente l'autonomia non deve significare che voi siete una costola della società provinciale perché una delle soluzioni per aggirare il dato normativo potrebbe essere questo la società provinciale crea una gemmazione nel Cilento che ha una sua autonomia contabile finanziaria organizzativa gestionale giustamente si rifletteva non potete chiedere l'autonomia e poi se ci sono le perdite si riversano sulla società provinciale l'autonomia significa autonomia piena cioè se ci sono perdite intervengono i comuni che chiedono l'autonomia ecco detto questo però il discorso è un'autonomia che probabilmente dobbiamo affrontare a parte su come costruirla dal piano di vista amministrativo presente delle difficoltà la prima è quella normativa ma probabilmente aggirabile perché ovviamente la provincia si deve entrare in mezzo anche con un per cento perché la norma dice la società provinciale quindi la provincia deve essere dentro anche se in modo simbolico ma soprattutto l'aspetto più complicato su quale argomento qual è la razza dell'autonomia perché altrimenti rischiamo che poi ognuno vorrà la sua autonomia l'argomento forte è l'area protetta è un argomento forte ma che se in sé ha implicitamente le ragioni della debolezza e te lo spiego perché perché ci sono territori del parco che sicuramente non aderiranno a questa distanza di autonomia vi faccio un esempio tutta l'area al parco che è nel Vallo di Piazza non ha nessun interesse organizzativo economico per confluire sul polo ecologico di Vallo della Lucana o allo stesso modo l'area degli Alburni anche gli Alburni Ottati Controne Aquare ovviamente sono più portati verso Eppoli per una comodità logistica è difficile che aderiranno a distanza di autonomia di questa parte del Cilento o al contrario ci sono territori che non sono parte dell'area protetta e che è opportuno per un dato quantitativo che vengano a far parte di queste richieste di autonomia penso al polpo di Policastro ci sono comuni che non sono parte dell'area protetta ma che comunque per un fatto logistico è più coerente che vengano nella nel polo ecologico vengono a sversare nel polo ecologico utilizzi nel polo ecologico di Vallo della Lucana piuttosto che andare con l'area della nostra parte per cui questa chiesa di autonomia che deve fondarsi sulla specificità dell'area protetta e quindi è un inizio che la chiesa di autonomia deve partire e vedere come un protagonista impatto ha però anche degli elementi di stunine rispetto a questo elemento di forza però non possiamo che non partire dal fatto dell'area protetta perché non abbiamo argomenti diversi dal palo di Viano ovvero dall'agro questo è l'argomento che ci può differenziare rispetto agli altri i tempi che è una cosa importante domani mattina domani mattina Vardè vuole sapere qual è la proposta e se è stata votata da tutti i sindaci vuole un atto formale della proposta altrimenti per cui noi a costo quindi stare a discutere fino a notte inoltrata dobbiamo uscire con la proposta con l'approvazione di tutti su questa proposta poi sul piano della questione dell'autonomia fermo restando che c'è la volontà politica di riconoscere questa autonomia ci sono questi problemi che vi ho detto che dobbiamo affrontare e probabilmente riusciamo anche a risolvere un ultimo aspetto che però i tecnici sono pronti a computarli ma che dobbiamo mettere in prevenzione i costi che usciranno per i cittadini scatorelli dall'autonomia saranno di più o saranno di meno di quelli di oggi i tecnici dicono che saranno di meno io non lo so e so soltanto che non c'è un'economia di scala cioè se lo stile di battipaglia lavora e produce per un milione centomila abitanti qui lavorerà un piccolo stir per centotrentamila persone centottantamila persone l'economia di scala mi dice probabilmente qualche costo aggiuntivo ci sarà però probabilmente anche un costo aggiuntivo del 10% vale l'autonomia ed è un ragionamento che possiamo certamente avallare tutti per cui non lo metterei come aspetto primario però pure su questo dobbiamo ragionare diretti di mettere un momento da parte sia il ragionamento sul modo sul come realizzare e attuare l'autonomia e anche sui costi e concentrare invece la nostra attenzione sulla fattibilità tecnica ed economica di questa proposta alternativa dando per scondato credo che non voglio anticipare la votazione che ci sarà dopo l'illustrazione della proposta ma che c'è la volontà politica di fare questo di formulare questa proposta alternativa alla discarica di loro grazie Grazie. 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 Ne discende una prima conseguenza. Il problema si ridimensiona per quantità e per qualità. Perché facciamo riferimento a quantitativi di rifiuto che sono quelli prodotti nell'area di rifiuto e facciamo riferimento a rifiuti che qualitativamente traggono le loro caratteristiche da un impianto normativo generale che governa quest'area. E quindi, come capite bene, il problema comincia ad assumere connotati diversi sia per quantità che per qualità. E allora noi abbiamo elaborato la nostra proposta che ha fatto riferimento a un altro caposaldo. L'altro caposaldo è quello che una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti compatibile, coerente con un'area protetta, debba porre al centro il valore del recupero, del riciclaggio. E allora qui mi piace dire e riconoscere, non al Consorzio, non ad altri soggetti, ma soprattutto ai sindaci del territorio, alle amministrazioni comunali, mi piace riconoscere e notificare, notiziare chiunque ci ascolti sulle performance notevoli che questo territorio è riuscito a fare nell'ambito della raccolta differenziale. Il 2010 abbiamo registrato, dai dati ufficiali consortivi, la media del recupero che quest'area riesce a fare, faccio riferimento al bacino del numero 4, supera il 50%. Le proiezioni che abbiamo per il 2011 ci portano al di sopra del 60%. Devo raccomandare al sindaco di Castellabate di frenare un momento, perché sta mettendo in crisi la modesta indianistica che abbiamo, perché ha avuto un esplorale negli ultimi sei mesi il comune di Castellabate che fa paura a livello di recupero di materiali riciclabili. Questo per dire che il dato della identità di questo territorio non è qualcosa di astratto, di qualcosa che sta nella nostro pensiero o nella nostra retroterra culturale. Cioè noi cominciamo ad essere, e ciò è visibile specie in materia di trattamento dei rifiuti, cominciamo ad essere, ad avere una coscienza di area nazionale protetta. Perché quando ci troviamo di fronte a performance di questo genere, che nell'ambito della provincia non trovano uguali, significa che è diffusa la consapevolezza che in un ambito territoriale come questo dobbiamo fare della raccolta differenziata e del recupero un valore assoluto. E allora se questo deve essere posto al centro noi dobbiamo attrezzare il territorio con tutte quelle infrastrutture che sono necessarie per assecondare questa consapevolezza, questo cammino di crescita e per massimizzare i risultati che si possono ottenere in quest'ambito. Perché io non devo più essere nella condizione di dover dire al sindaco di Castellabate piuttosto che al sindaco di Casalberino o al sindaco di qualsiasi altro paese, aspetta un attimo, non portarmi stamattina il tuo camion di plastica piuttosto che di cartone perché sono in affanno perché il mio ambito non ce la fa lavorare. E questa è la difficoltà che noi dobbiamo superare. E allora l'impiantistica di riferimento. L'impiantistica di riferimento. Perché se non abbiamo la impiantistica di supporto a un sistema efficiente di raccolta differenziata andiamo in crisi. E allora il territorio ha l'ambizione di inverare questa condizione. E come l'ho fatto? Fornendosi di quelle attrezzature che sono necessarie per assecondare questo processo che è un processo di crescita. E allora a fianco a quel modestissimo impianto perché, diciamocela tutte, è un modestissimo impianto per come è configurato attualmente di selezione del rifiuto secco proveniente dalla raccolta differenziata, che è quello di Casalberino e che è un impianto che sicuramente è la potenziale, vanno poste una serie di altre realtà impiantistiche. La prima, quella che viene in mente, perché il principio mi correggerà, e io chiedo che è un tecnico del territorio, il primo è il primo camion del raccolta differenziata, differenziare, distinguere la frazione secca dalla frazione umida. E dopodiché trattare la frazione umida. Il territorio ha bisogno di un impianto che possa possa inverare l'altra condizione. E cioè che la frazione umida del nostro rifiuto è una risorsa, è un valore, è qualcosa dal quale si può trarre lavoro e ricchezza. che noi attualmente stiamo facendo, stiamo pagando, stiamo mandando insieme con il nostro rifiuto umido, stiamo mandando insieme con il nostro rifiuto umido che di per sé è un valore verso altre regioni d'Italia, fiumi di denaro. Noi accompagniamo ogni camion di rifiuto umido che esce dal nostro territorio per andare qualche tempo fa in Alt'Italia, adesso mi pare in Puglia, accompagniamo quel camion con un fiume di denari perché quei signori che stanno dall'altra parte per poterselo ricevere e farne lavoro nei loro impianti e ricchezza per i loro territori vogliono essere anche pagati. E allora dobbiamo arginare questa situazione, dobbiamo mettere, cioè da persone intelligenti come siamo non possiamo permetterci a un frutto in tempi di magra come questi, questi sprechi del genere. E allora un impianto che sia in condizioni calibrato sui quantitativi che il rifiuto che il territorio produce sia in grado di dare anche da questo punto di vista non esposto. Poi bisogna dotarsi di una impiantistica proprio perché siamo in un'area protetta e proprio perché vogliamo massimizzare le performance di diperizzazione e di recupero del rifiuto di una impiantistica che prenda quella frazione di rifiuto indifferenziato che ancora produciamo e ne tragga tutto ciò che è possibile recuperare e mandare a valorizzazione. E le tecnologie che sono state poste in campo consentono di trarre ancora dal rifiuto cosiddetto indifferenziato materiale da mandare a recupero. E allora noi dobbiamo, noi non possiamo attendere che i tempi biblici o mandare i nostri rifiuti allo stile di Battipagna e poi riportarci indietro nei siti di stocaggio che sono qua sul nostro territorio. Perché un'altra considerazione che abbiamo fatto è che non si può chiedere al Comune di Mondale piuttosto che al Comune di Lovrano di farsi carico, oltre che del trattamento nell'impianto, del doppio costo del doppio viaggio. Andando e ritorno. E' una cosa assurda che non può essere, non può assolutamente essere, oltretutto essendo questa la parte della provincia più penalizzata per i parametri economici che purtroppo ci vedono, ci assistono. E' per essere penalizzata anche da una condizione della viabilità che è tale da rendere, per arrivare a livelli altissimi i costi proprio dei trasporti. E allora sono queste le ragioni che inducono a chiedere di dotare questo territorio di un impianto di trattamento della frazione indifferenziale. Anche perché se noi accedessimo all'altro ragionamento, cioè quello di utilizzare l'impianto di battipaglia, noi non sapremmo quale rifiuto ci ritorna indietro. Perché nello stir di battipaglia il nostro rifiuto si fa mescolare con quello che prevede da tutto il resto della provincia tal che al ritorno per quantità può tornarci lo stesso rifiuto che noi abbiamo portato, ma per quantità non avremo alcun tipo di garanzia. E poi è chiaro che da uno stir esce fuori quello che noi chiamiamo uno stir, ma che a me piace chiamare come un impianto di ulteriore selezione del rifiuto indifferenziato, viene fuori un prodotto che può essere termovalorizzato, che deve avere però una collocazione, uno stoccaggio, perché non abbiamo ancora la possibilità di avviarlo a un impianto di spartimento definitivo. Quello che può essere termovalorizzato lo si termovalorizzerà e dopo di che noi avremo chiuso il ciclo nel nostro territorio. Queste sono le linee guida, i numeri più in dettaglio ve li darà Enzo Chiera che voi voi tutti conoscete, perché il giorno di Enzo non è che ce lo siamo impendati. Io quando sono stato interessato di questa problematica mi sono andato a vedere le carte del Consorzio che è stato affidato alla mia responsabilità e l'ho ritrovato negli atti del Consorzio un vecchio studio fatto da Enzo se lo sbaglio nel 2008-2009 dove già all'epoca si cominciava ad ipotizzare un modello di gestione del ciclo dei rifiuti del pari. Noi abbiamo ripreso i ragionamenti da lì. Enzo è una risorsa del territorio, è la memoria storica del trattamento del ciclo dei rifiuti sul territorio. Siamo ripartiti da là. I costi. Attualmente io capisco anche la, ed è giusta, fondata la perplessità relativa all'allocazione del personale che attualmente è alla dipendenza del Consorzio e delle società partecipate. Però sulla base delle proiezioni che noi abbiamo fatto, questo personale si lega conto che attualmente noi, come bacino, non abbiamo, al di là dell'impianto di Casalvelino, non abbiamo impianti in sera. Per cui quel personale che c'è è occupato a prescindere dagli impianti. Probabilmente c'è qualche sotto utilizzazione. Però se riusciamo a proseguire sulla strada che abbiamo intrapreso di nazionalizzazione delle presenze sui servizi da corta, dalle proiezioni che noi facciamo non ci pare che sull'attuale bacino riferito al Consorzio e riferito a Iele che vi siano degli esuberi. Cosicché tutto ciò che noi andremo ad implementare con un'eventuale impiantistica, fondatamente si può pensare che sia nuova occupazione. E' chiaro che poi c'è un problema della sostenibilità economica della proposta. Però su questo io mi permetto di segnalare che i margini per potersi muovere sono notevoli se consideriamo che i costi dei trasporti dei nostri ripiuti all'esterno, agli impianti che sono oggi all'esterno del bacino incidono in maniera considerevole, voi altri sindaci tutti lo sapete, incidono notevolmente sulla economia del ciclo. Per cui il poter fare a meno, avendo degli impianti di prossimità sul territorio, poter fare a meno di spostarsi di spostamenti molto lunghi anche perché, tendiamoci bene, quando parliamo di spostamenti non parliamo solo della copertura chilometrica perché partire con un camion da Vallo della Lucania o da Centola e arrivare allo stile di Battipaglia non significa arrivare e scaricare, ma soprattutto nel periodo estivo significa arrivare e sostare lì in alcuni casi anche svariati giorni con conseguente necessità di fermo del personale in sito e necessità di pagare straordinari a quel personale. Cioè, voglio dire, credo che da questo punto di vista questa margine di miglioramento, di abbattimento dei costi sarebbero notevoli. Allora, lo studio che è stato fatto e che Enzo vi illustrerà nelle linee un po' più di dettaglio, ci inducono a pensare che la sostenibilità da questo punto di vista ci sia brutta, anzi che si vada incontro anche dei considerevoli abbattimenti dei costi rispetto ai livelli attuali. Poi è chiaro che nel confronto ci si potrà rendere buono se eventualmente ci sono dei dati che non sono corretti oppure no. A me quello che piace sottolineare è che in un momento come questo il territorio credo sia stato capace di individuare una soluzione logica, coerente, tecnicamente sostenibile per dare una risposta a un problema che c'è, perché il problema della gestione dei rifiuti c'è, c'è provincia, consorzi, regione, ma il problema è là ed è un problema quotidiano. Responsabilmente il territorio deve farsi carico di questo problema, deve individuare delle soluzioni e credo che il territorio abbia individuato. Questa è una soluzione, probabilmente non sarà l'unica, non sarà la migliore, ma è una soluzione, rispetto alla quale ci sentiamo di poter spendere il nostro impegno, soprattutto è una soluzione perché affronta il problema nella sua complessità e nella sua integrità e non partendo semplicemente da una discarica per poi lasciare a pesco gli altri ragionamenti. credo che il parco possa spendere, possa dedicare attenzione a questa proposta, eventualmente per inventarla in senso migliorativo, per cui io non ho altro da dirvi, lasciandomi a Enzo eventualmente per una specifica situazione. allora prima di dare la parola al Girona, mi ha chiesto noi di dare delle delucinazioni il direttore del parco, poi un minuto al comitato, poi variante e poi via. Scusami questo ho qualche considerazione qualche considerazione soprattutto su quello che ha detto Marcello che ha fatto un'analisi è chiaro che guardando dal punto di vista di chi ha scelto il SIC come lo ha scelto fuori parco non è SIC con un'infrastruttura viaria che non dovrebbe attraversare nessun comune quindi se uno guarda semplicemente le carte dice vabbè è un risultato che può essere adibito a discarico faccio questa considerazione se si va sul posto uno immagina che è una pura follia realizzare una discorica in quel posto quindi è chiaro che ci sono delle contraddizioni forti su questo aspetto che vanno superate e si stanno superando con la proposta messa in campo l'altro aspetto che diceva Marcello quello del la forza c'è ma certamente è la regione naturale propetta ma scusate io vi chiedo sacrificio ogni giorno lì dico quei sindaci con aria mente su due alle richieste perché blocco una serie di cose cittadini che sono a volte furibondi perché benisco di fare un allargamento un avviamento perché stiamo cercando di controllare tutelare questo territorio e poi tranquillamente dovremmo consentire anche stecnicamente con un'area protetta fuori da SIC a realizzare una discarica è quando viene una contraddizione quindi la nostra forza è il parco è il parco la contraddizione che dicevi tu può essere facilmente superata è stata già superata in altre circostanze in altre occasioni l'UNESCO non coincide con il parco per dire il geoparco non coincide con il parco ma soprattutto vorrei richiamare l'attenzione dei sindaci che quando ci siamo messi insieme con forza abbiamo realizzato delle proposte progettuali di una valenza notevole vi voglio ricordare perché ormai lo state dimenticando la DR l'accordo di reciprocità su cui ci siamo spesi Angelo Vassallo capolino di Pollica il parco sistema civile e tutti insieme per realizzare una proposta che già conteneva in sé due anni fa che Enzo lo sa un impianto di compostaccio all'attere di quello che era verso l'autonomia energetica del parco cioè questo territorio dovete in qualche modo essere cosciuti che è un territorio di pudi e dovunque vado guarda ve lo posso assicurare dovunque vado in Ciro per l'Italia andiamo a Roma e il Presidente lo sa vado in Sicilia e ci vengono dietro per le cose che facciamo solo in questo territorio non siamo cosciuti del fatto che possiamo elaborare delle proposte che possano essere sedie il nostro ADR che già conteneva in sé forse oltre al progetto verso l'autonomia energetica del parco una parte di vitalizzazione è l'impianto di compostaggio per realizzare il parco che poi tutto sommato grosso modo è chiaro sono passati due anni e quello che Enzo gli presenta la pensione è contenuta già nella proposta che avevamo fatto due anni fa la regione Campania che ci vide al primo posto candidati come territorio per questa proposta dell'ADR poi sappiamo che le vicende politiche sono state delle difficoltà economiche però dobbiamo proseguire in questa direzione unite e combattere perché la soluzione c'è anche se il mio vice direttore sindaco e tra l'unità e il presidente di un parco regionale mi dice tu sogni sei un sognatore però per fortuna c'è lui che mi tiene perché divertente e quindi ci compensiamo io sogno e vado avanti e lui ogni tanto mi dire e mi dice Presidente poi non ne parliamo è un congulatore continuo su tutte le cose quindi dobbiamo credere nella nostra capacità di risolvere i problemi questa soluzione che viene proposta non ce la guardiamo la vediamo bene deve essere chiaramente una proposta della comunità del parco anche se possiamo intitulare una parte del parco che aderisce a questa proposta come abbiamo fatto per l'ADR come abbiamo fatto in altre situazioni in cui c'è questo protagonista c'è il Presidente della comunità del Varo Lidiano che in quell'occasione non ci vede uniti perché sono territori comunque che stanno insieme per tutta una serie di cose abbiamo fatto tanti interventi nel Varo Lidiano per alcuni aspetti ci dobbiamo separare probabilmente questa è l'occasione perché conviene a tutti di avere solo una parte del parco ma questo non diminuisce la forza di un'area naturale protetta a fare una proposta che possa essere condivisa e guardate ce la possiamo fare se uniti e insieme senza litigare con le soluzioni tecniche è quasi assurdo che ancora oggi in 2011 ci parliamo di distrarie nel senso che vediamo nel resto della regione campagna ci sono delle soluzioni che possono essere trovate anche se ripeto ancora una volta il mio vice direttore sindaco di Lodio dice sei un sognatore però se non sogniamo probabilmente i problemi non riusciamo a risolvere la maniera giusta volevo fare questo intervento perché grossi problemi da un punto di vista pratico non ce ne sono bisogna solo avere la forza e la volontà di andare avanti e convincere la provincia e la regione a darci la possibilità di lavorare insieme per il nostro territorio allora ringraziamo il direttore saluto anche il presidente di Lodio la parola adeco al responsabile rappresentante del comitato cerchiamo di essere abbastanza sintetico con 90 secondi perché sei stato bravo anche l'altra volta io vorrei fare un appello innanzitutto ai cittadini che sono intervenuti di mantenere il più assoluto silenzio e di ascoltare con pazienza e con calma la proposta che verrà fuori ricordo che non è un'assemblea ma è un incontro istituzionale di conseguenza noi in teoria dovevamo stare fuori siamo entrati siamo partecipi questa è democrazia e civiltà è ascoltare e poi eventualmente riunirsi parlare controbattere insieme e dialogare per una soluzione unicoca dobbiamo ricordarci un'altra cosa che i sindaci e noi marciamo verso un'unica direzione che è quella di una società migliore del Cilento possiamo avere opinioni diverse partire da posizioni culturali diverse ma sono convinto di una cosa che tutte le persone che sono qua dentro non vogliono né la camorra e né tantomeno il male di questo territorio con questa fatta questa dovuta premessa ovviamente alcuni confronti diretti ci sono stati anche un po' più accesi mi riferisco al consigliere Pietro ma nella democrazia ci sta anche questo come ci deve stare anche un confronto sereno della riscarica a loro ne abbiamo parlato molte volte delle posizioni di contrarietà ne abbiamo parlato molte volte ci avete chiesto una proposta alternativa noi semplicemente stasera vi ascolteremo abbiamo dei documenti c'è una rete che a livello nazionale sostiene una metodica diversa di approccio al rifiuto partendo da un principio che io qui stasera ho sentito anche scandire che è il principio del rifiuto come bene dell'individuo bene del singolo cosa intendo per questo con questo intendo dire che la bottiglia di plastica che noi compriamo al supermercato ci appartiene e dovremmo anche essere in grado di riuscire a gestire il suo smaltimento recuperandone traendone un profitto possibilmente sottratto dalla tassa sui rifiuti sostanzialmente noi crediamo che il trattamento a caldo dei rifiuti non sia la soluzione migliore considerando anche recentemente le parole dell'assessore all'ambiente del comune di Salerno Calabrese il quale sta considerando insieme al sindaco di Luca di fare una retromarcia rispetto alla termovalorizzazione a Salerno è una considerazione è una considerazione l'assessore non è di questa opinione sicuramente lui avrà se vuoi fare polemiche no non voglio fare polemiche allora facciamo di imparare no no vai a costruire no no chiudo chiudo leggo semplicemente no no assessore veramente io le consegno soltanto questa cosa è chiudo dopodiché secondo me possiamo anche scendere giù e attendere quelle che sono le decisioni no 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 onde evitare frizioni perché il comitato non vuole evitare frizioni non vogliamo che un domani si dica la discarica si è fatta per colpa vostra o qualcosa del genere noi assolutamente vi leggo una semplice considerazione il ciclo dei rifiuti di rifiuto come proprietà del singolo cittadino a monte bisogna necessariamente partire dalla normativa europea che ha come fondamento il principio delle quattro vere riduzione riuso recupero riciclo abbandonare la strada del trattamento a caldo dei rifiuti trattamento a freddo per la quota indifferenziata trattamento meccanico biologico per il recupero dell'ulteriore organico contaminante il secco indifferenziato da destinare ad un impianto aerobico e anaerobico trattamento meccanico manuale per la parte secca con recupero considerata l'attuale tecnologia con recupero del 93% dei materiali plastici ferrosi e quant'altro ciò che resta è il residuo secco indifferenziato circa il 100% che può essere trasformato in materia prima secondaria attraverso un impianto di estrusione a freddo dal quale si ricavano conglomerati bituminosi per l'edilizio da rivendere a circa 250 euro tonnellata l'impiantistica l'impianto di Vedelago che non gestisce la frazione umida e che quindi utilizza solo sistemi meccanici di Vedelago ne ha parlato il... lo so ma io infatti ho preso spunto da questo io ho preso spunto proprio da quell'incontro l'impianto di Vedelago che non gestisce la frazione umida e che quindi utilizza solo sistemi meccanici grazie all'accoppiamento di diversi impianti che lavorano in serie è in grado di rendere riutilizzabile circa il 95-98% del rifiuto conferito derivante sia dalla raccolta differenziata residenziale porta a porta proveniente dai comuni del circondario sia ai rifiuti industriali di commercianti ed artigiani grazie a questi impianti il centro è in grado di portare all'industria una materia prima seconda riutilizzabile in ulteriori cicli di produzione la percentuale di rifiuto non differenziabile principalmente plastiche e quindi solitamente non riutilizzabile viene prima estruso e poi tritato finemente fino ad ottenere un granonato a matrice prevalentemente plastica utilizzato principalmente dall'industria come alleggerito nei manufatti edili quello di cui abbiamo parlato prima in sostituzione della sabbia di cava 20-30% del materiale necessario alla creazione del manufatto questo materiale conferisce caratteristiche migliorative ai manufatti ottenuti che rispondono regolarmente alle norme univigenti la sabbia sintetica ottenuta viene utilizzata anche per la creazione di sede panchine bancali ed altri manufatti vari gli stessi creatori del centro riciclo Vede Lago dichiarano che i costi globali per la costruzione di un impianto di questo tipo si aggirano attorno ai 5 milioni di euro in un arco temporale di circa tre anni impianti gemelli come quello di Vede Lago sono in costruzione in Sardegna grazie all'iniziativa di 14 comuni locali con al capo il comune di Terco e a Colle Ferro a seguito di un'iniziativa di imprenditori privati per l'organico preferiremmo compostiere comunitare come a cuccaro vetere e familiare come già accade nei nostri paesi perché pensare ho un impianto piccolo di compostaggio ci può stare ma i nostri paesi mi scusa se mi dispiace perché devono parlare anche la parola minerale il sindaco di Rosario cioè non voglio giustamente toglierti dello spazio perché scortiamo vai a concludere 30 secondi compostiere comunitare e familiare si può pensare ai nostri paesi anche ad una forma di conferimento sul modello famiglia-famiglia no finito 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 sul modello famiglia-famiglia sono le nostre ultime decine con la riduzione immediata dell'imposta sui rifiuti rispettivamente dal 7 e mezzo per il ricevente e dal 2 e mezzo per il fornitore multimateriale piattaforme che riconoscono un'adeguata remunerazione comuni per i coni associati isole ecologiche intercomunali con pesatrici e software gestionali tessera magnetica per i cittadini sul modello capandoli porta a porta solo per chi lo richiede mi fa piacere veramente gli studi di settore indicano un'occupazione solo per quanto riguarda la raccolta differenziata degli impianti di riciclo di circa un operaio di 900 abitanti in più l'occupazione degli impianti sia di estrusione che di trattamento affetto abbiamo finito e speriamo da domani di poter veramente intavolare un discorso sospirizziamo a tutti e con questi intercine voglio che ci viveremo grazie sono 30 secondi perché dopo ti do la parola dopo voi dopo va bene ma volevo dire semplicemente anche nelle parole di Angelo De Rita che sono state molto efficaci a mio avviso che molti comuni già stanno va bene molti comuni già stanno operando sui piani energetici ambientali perché il vero cuore di quel grande progetto che abbiamo presentato e che spero sollecito la politica a finanziare visto la buona valutazione l'ottima valutazione molti comuni già stanno operando in quel senso molti comuni hanno sottoscritto il fatto dei sindaci di recente sono stati a Bruxelles diversi sindaci di questo territorio personalmente già ho dato mandato all'università di Salerno per farlo quindi fuori dal consorzio lo voglio precisare dal consac e sollecito il comitato ad assistere i sindaci in questa operazione già ne abbiamo parlato ampiamente perché è vero positivo insomma gli impianti è una soluzione strategica che insomma prodono i tecnici per il loro impegno però accanto agli impianti devono continuare ad operare i cittadini perché sono il vero motore di quella che è una base virtuosa oggi del territorio e solo con i cittadini e con l'aiuto soprattutto di chi come il comitato catalizza questo tipo di impegno possiamo rivendicare l'autonomia il dato politico e in questo ringrazio l'assessore Feola che è presente e finalmente riesce a promuovere un buon grondo virtuoso sulla base di proposte che già abbiamo fatto e che sono effettive il dato di questa sera è l'autonomia è un'autonomia tradotta e declinata sotto questi aspetti che parte da un territorio virtuoso che può diventare davvero un esempio un emblema di tutto il territorio nazionale traducendo in essenza quello che poi è l'area protetta che deve essere insomma un parto questo volevo dire e sollecito l'assessore Feola ad andare fino in fondo l'assessore andiamoci fino in fondo sull'autonomia perché davvero può essere può essere il tassello giuridico per il riscatto ambientale di questo territorio allora prima di potete vedere la scelta della scaletta perché dobbiamo poi poi concludere dalla parola chiunque ce la chiede perché qui siamo in massa della democrazia voglio dire solo se ci sono altri rappresentanti dei comuni di farci avanti perché il segretario qui leggo il consiglio di come c'è la domanda presidente chiedo scusa ma io io farei un'obiezione questa è una riunione tecnica facciamo logicamente il proseguo del sforzimento tecnico non facciamo intervenire gente che interviene per altri batti adesso dovrebbe parlare caro Romarelli qua sono tutti delegati quelli che hanno parlato nel comitato sono tutti non possiamo stare a sentire ancora le chiacchiere dobbiamo a dire le cose questa è una verità allora io dico questa cosa fino adesso ci siamo comportati in maniera civile e democratica allora se a questo punto non si rispetta la regola che è di dare la parola a chi ce l'ha chiesta io scioglo la seduta prego non spera di dare solo un piccolo contributo diciamo alla parte politica verificativa del dipatto la parte tecnica per quanto mi riguarda credo che Enzo il consorzio e quello vorranno integrare anche i sindaci sicuramente è ben fatto alcune questioni di merito sono le quali che voglio confrontare con Marcello che ringrazio tra l'altro soprattutto la civiltà del dipatto a quale in qualche modo siamo anche riusciti a recuperare un dialogo che non è la prima volta che lo facciamo anche da idee e proposizioni di testa nemmeno quando abbiamo fatto i tempi che fino adesso ci sono sempre precedenti positivi mantenendo forse alcune idee anche questa serie che io troverò a dire e che mi offro come tema di confronto di dibattito successivo diciamo di questa problematica non sempre capita così tu lo sai molto spesso qualcuno di noi può sentire qualche incursione folcloristica un po' diversa ma questa sera c'è la civiltà dei 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 toni e dei contenuti io vorrei questo di invadire anche per dire amico Romanelli non perdiamo tempo a chiacchi le questioni la parte che farà è una parte strettamente tecnica e impiantistica qui però c'è una cosa forte importante che è la questione amministrativa di come si costruisce un percorso sul quale secondo me questa sera dobbiamo stabilire dei principi cardidi fondamentali perché questo ci guiderà per quello che dobbiamo fare dopo per le garanzie che dovremmo avere per il futuro su tutte le cose da fare e da realizzare perché ha detto bene Marcello noi siamo ancora in regime anche commissariale in regime commissariale significa che ci possono essere comunque decisioni che qualcuno tenterà o potrebbe tentare a prescindere da noi ecco io perché da questo punto di vista dico Marcello è vero che noi abbiamo l'urgenza di una proposta perché ci tocca perché comunque sempre la responsabilità della politica dare una proposta alla soluzione dei problemi però io partirei dal presupposto che noi dobbiamo dire con grande chiarezza che questa sera trova un territorio ed un'assemblea seria e responsabile che è evitato di fargli fare un abuso quale avrebbe fatto a lavorito senza autorizzazione e che rispetto ad un atteggiamento che fino ad essere in un Stato collaborativo si pone in campo come una proposta che vuole essere anche di supporto alla sua attività questo per dire che noi siamo pronti ad una proposta urgente ma siamo anche consapevoli che senza la condivisione del territorio e in particolare poi dal punto di vista amministrativo e il Presidente mi pare che l'altro giorno è stato molto chiaro da questo punto di vista senza un'autorizzazione del Parco non avrebbe fatto non poteva e non può fare niente su questo territorio quindi tanto è vero a riprova di questo che voglio dire notate che mi pare che rispetto a questo lavoro che abbiamo fatto che stiamo recuperando come fronte istituzionale comune che hanno fatto pure la nostra gente che io voglio voglio ringraziare perché ovviamente gli amministratori in momenti particolarmente difficili chi vi parla lo sa che qualche tempo fa aveva tentato di lanciare l'allarma allo stesso modo anche sulla sanità vi ricordate sulla vicenda dell'ASD sa che in questi momenti voglio dire c'è bisogno anche del supporto e del ruolo di prima fine delle persone voglio dire senza questo movimento di popolo ovviamente forse oggi non saremo neanche qui a discutere siamo qui e siamo a discutere con una proposta che però dice subito al mio avviso come punto firma a parte dice noi siamo un'area parco potremmo arroccarci dietro tutti i limiti e le autorizzazioni che ti impederebbero di fare una discarica però siamo qui non a chiederti una discarica o a dirti no a delle discariche ma addirittura a proporti un progetto nuovo di autonomia di gestione di capacità anche in questo territorio di rendere i rifiuti più risorsi e io lo dico alla nostra gente perché è giusto che in questa occasione il curo lo sappia per fortuna non è la prima volta voglio dire a qualche amministratore di più lungo corso come me rispetto a Pierrico a noi non è la prima volta che questo avviene lo abbiamo fatto con l'ADL che è stato considerato un progetto di avanguardia quindi l'avete presentato c'è pure Marcello tra l'altro il mio comune qualche tempo fa mi piace anche ricordarlo perché diciamo Angelo Cassano è quello che ci ha aperto un po' la strada di quella esperienza e di questo anche ricordarlo un progetto di avanguardia nel campo dell'autonomia energetica e anche dal punto di vista in qualche modo della gestione di una parte almeno del settore dei rifiuti che era contenuta in quel progetto valorizzato dico che bisogna insiste sull'autonomia io su questo sono d'accordo non dobbiamo avere timore l'ha detto Perdon e su questo dico a Marcello noi secondo me nei prossimi giorni anche se faremo spero un consiglio provinciale dove andremo con una nostra mia proposta unitaria dobbiamo a mio voto porre questo discorso dell'autonomia come una condizione io insisto su questo pigliandoci anche i rischi tu l'hai detto perché l'autonomia significa responsabilità in risultato la responsabilità ti porta qualche volta anche a doverti gravare di alcune cose sono convinto mi pare che Mimmo l'ha accennato questa operazione comunque ci comporterà dei benefici ovviamente quando andrà il regime di impiantistica e tutto il resto però è una sfida che dobbiamo portare avanti perché quella è la sfida che ci libera dai condizionamenti di tutti quella è la sfida che non ci sottopone più a nessuno e quella è la sfida che ci consente anche nel futuro lo dico da questo punto di vista come amministratore di lasciare al nostro territorio quando sarà conclusa l'esperienza della provincia perché noi abbiamo anche questo limite che è in compenso di noi non sapete che è una legge dello Stato ha deciso che sostanzialmente tra un anno le province non ci saranno più quindi almeno questa configurazione di province forse saranno una specie di enti sovracomunali quindi tra un anno di fatto si chiude la nostra esperienza e noi dobbiamo garantire il nostro territorio quando termineremo la nostra esperienza al di là delle nostre buone intenzioni della voglia in qualche modo di fare fronte comune rispetto alle cose che ci stiamo dicendo stasera ci siamo anche blindati dal punto di vista amministrativo giuridico normativo per poter da qui ad un anno avere non solo un cibo completo di gestione di impiantisti ma avere soprattutto questo bambito e quell'autonomia normativa e giuridica normativa ma dal punto di vista diciamo giuridico istituzionale che ci consente poi di lasciare un percorso che nessuno può più intaccare e voglio dire che pure su questo non siamo andati ecco per cui lo dico non abbiamo il timore dell'autonomia noi la stessa cosa che ci proponiamo di fare stasera con i diffus l'abbiamo già fatta la stiamo già facendo con il ciclo integrato lo so anche su questo noi siamo stati non solo attivi in questi anni ma siamo oggi l'avanguardia rispetto al territorio della nostra provincia e non solo ma anche in campagna e anche in molte parti d'Italia si parla di questa esperienza di autonomia che abbiamo costruito e che stiamo costruendo e anche lì insieme rispetto alla condizione del ciclo idrico integrato quindi anche da un punto di vista dei precedenti amministrativi noi siamo pronti e io credo che siamo capaci di farlo e possiamo farlo molto di più rispetto ad altri territori la mia preoccupazione è quella di dire autonomia subito prima che mettano le mani comunque sul territorio perché questo ripeto serve per il dopo rispetto a quello che dobbiamo fare e chiaramente io propongo rispetto a quel documento di vanno di integrarlo ovviamente di metterlo come documento fondamentale di questa sera insieme alla proposta tecnica e di integrarlo con un ruolo rafforzativo del parco che in questa partita gioca un ruolo di tutela anche sicuramente di gestione e di azione da questo punto di vista potrà essere di grande utilità ma soprattutto io dico un ruolo di tutela fondamentale in questa vicenda perché questa è l'altra garanzia che abbiamo l'autonomia e il ruolo del parco che potrà dire sempre a qualcuno domani mattina che se noi abbiamo avuto garanzie che si fanno impianti su quella dimensione nessuno può essere autorizzato a fare impianti di dimensioni diverse e guardate che questo guardè lo sa bene altro che minaccia al territorio lo sa bene e lo sa bene al punto tale che se vi ricordate fino a qualche settimana fa si parlava di un piatto di trattamento finale che è stato chiamato di 130.000 metri cubi se ne sbaglio oggi mi pare che già si ragiona se è vero quello che poi verificheremo di qui a qualche giorno o a qualche ora che si accetta una nostra proposta alternativa si ragiona di 40-50.000 vuol dire che evidentemente qualcuno sa bene sa bene che senza il consenso del territorio senza le autorizzazioni amministrative qui non si può fare nulla questo noi lo dobbiamo ribadire perché lo dobbiamo ribadire perché evidentemente dà anche secondo me più forza la nostra proposta che facciamo stasera anche in termini contrattuali come dire e soprattutto ci garantisce per il futuro cioè la centralità del parco in questa partita ci garantisce per tutto quello che poi sarà la costruzione del percorso noi però vedete tu hai detto bene autonomia e responsabilità però noi dobbiamo essere sei in incontro cioè non possiamo dire noi siamo l'isola felice noi siamo i più bravi noi siamo quelli che sappiamo farlo a vedere le cose perché è vero quello che tu dici per il ciclo delle acque sui rifiuti non è che siamo stati così nell'esperienza consorzio non è stata un'esperienza felice per cui facciamo anche in mea culpa in tutta la provincia in tutta la provincia però non siamo stati lì solo a felice siamo andati insieme agli altri sul sistema rifiuti l'urgenza parteci domani mattina però caro caro Simone e cari sindaci noi dobbiamo ripeto fare in mea culpa anche sui tempi ho dimenticato di dirlo prima e lo dico tanto per quadrare un po' il ragionamento complessivo quando vi ho detto che Cilievi la missione provinciale ho detto devi fare almeno 4 non devi fare 4 ambiti eccetera eccetera e l'ha accettato subito dopo che ha fatto Cilievi ha scritto una lettera a tutti i sindaci dove gli ha detto voi siete nell'ambito occidente mettetevi d'accordo riunitevi questo a luglio riunitevi individuate il sito fate una proposta ha stimolato una proposta nessuno ha fatto niente ma non solo in tutta la provincia nessuno ha detto nulla nessuno ha formulato una proposta oggi siamo con l'acqua alla gola e facciamo la proposta un'altra proposta di un'altra proposta di un'altra proposta di un'altra proposta di un'altra proposta allora proposta chieda poi c'è parelli e poi pisane stiamo caricando un'altra proposta scusa poi prima dopo di parelli e pisane ce ne sono altri interventi così poi facciamo concludere no vediamo siamo alla massima democrazia sentiamo sentiamo appunto con cui ci deve parlare ma se ci può adesso possiamo annotare per favore io presido l'assemblea dei sindaci non solo io che posso sapere tutti che l'avete 80.000 volte che domani mattina giù a Salerno alla provincia vogliono sapere tutto il progetto ma penso che l'assessore l'ha detto ampiamente scusa una cosa più importante la parola che appena appena è stata sussussurata soltanto dal sindaco di Vallo sbaltimento questo è il centro di tutto qua si fa si continua a dire chiacchiere io voglio sapere lo sbaltimento avverrà e dove avverrà se no la sbaltimento verrà fatta l'aurito guarda io penso che sia l'assessore sia sicuro abbiamo detto che ce ne andiamo qui da una proposta condivisa da tutta la sembra dei sindaci ma che posso provare i sindaci non puoi chiedere la parola ma si può fare questo io penso che questa è una sembra dei sindaci come una sembra di sindaci prego via quindi capo parenti sono altri di diretti da nessuno ovviamente sento tutto il peso anche della responsabilità di questo momento particolare ma vi assicuro che è una responsabilità che io mi prendo in pieno perché forse altro perché la mia storia è una storia che finalmente forse trova in questo momento in questa occasione per favore adesso vogliamo entrare diciamo nel merito della tematica di questa sera cerchiamo di stare attenti di stare abbastanza in silenzio perché anche noi abbiamo interesse a sentire questo che dicevi di tutti prego dicevo è una responsabilità che sento e che non di nasconto sono anche in qualche modo fiero di espletarla qui questa sera dopo che la mia storia insomma lo racconti io sono 15 anni che mi occupo di rifiuto e mi occupo essenzialmente di quella parolina magica che si chiama raccolta differenziata voglio ricordarlo chi non mi conosce nel 98 ho progettato quindi sto parlando di 13 anni fa all'epoca parlavo di secco e umido e progettare l'impianto del secco che poi per l'opposizione di qualche cittadino dovete addirittura realizzare a 100 metri di casa mia per dimostrare che non era questa bomba ecologica che descriveva stavo parlando della raccolta differenziale di carta plastica dell'impianto di selezione progettare anche quello di compostaggio nel 98 l'iter amministrativi non ve le sto qui a raccontare perché l'impianto di selezione secco inventato in funzione dal 98 negli tre anni fa quello del compostaggio si è perso letteralmente per via quindi l'importanza dell'impiantistica è assolutamente fondamentale è inutile che noi parliamo di raccolta differenziata se poi non abbiamo l'impiantistica adeguata che supporta la raccolta differenziata ci mettiamo nella condizione peggiore in assoluto come cittadini come amministratori perché ci mettiamo nella condizione di spendere tantissimo perché è un elemento è vero l'emergenza rifiuti è un'emergenza ma ancora più importante l'emergenza rifiuti secondo me è anche l'emergenza economica perché quando non ci sono le risorse e voglia di progettare e di pianificare tra l'altro io odio l'appellativo di progettista mi piace molto più quello di pianificatore perché quella è la mia bella attività io riporto semplicemente un giro qualche slide e voglio partire da queste piccolissime slide pochissime slide per giustificare intervento scusatemi ma il computer qualche slide in realtà questa è una slide che spiega come siamo arrivati è una slide che non c'entra con il polo ecologico ma non ho avuto moltissimo tempo a presentare a settembre sono stato invitato come relatore in questo forum internazionale che si svolge ogni anno a Ravenna il tema era raccolta differenziata oltre il 65% bene ho fatto un intervento parlando del territorio parlando della provincia di Salerno parlando del territorio il titolo dell'intervento non tutti lo vedete è provincia di Salerno come conciliare la sostenibilità economica e ambientale con gli obiettivi di raccolta differenziata perché il tema vero è fare raccolta differenziata e farla anche sostenibile non solo economicamente ma anche ambientalmente ma anche dal punto di vista economico questa è la configurazione del nostro territorio il nostro pacino di riferimento è quello in giallo il Salerno 4 parte del Salerno 3 che comprende appunto il parte del Cilento questa è la situazione demografica come vedete noi si vede dalle fasce di popolazione quelli in giallo sono quelli a bassa densità demografica e soprattutto stiamo di fronte a una realtà con un abbondante numero di comuni piccoli comuni piccoli sì ma che fanno comunque popolazione 192 mila abitanti con i 107 comuni piccoli questo sorvoliamo qual è la produzione dei rifiuti anche qui due slide molto esemplificativi della situazione del territorio abbiamo una massissima produzione di rifiuti dal punto di vista della densità nella prima slide quella a sinistra e invece abbiamo una produzione pro capite soprattutto lungo la fascia costiera che va a passare fino a Capaccio elevatissima ovviamente è un dato semplice da spiegare l'afflusso turistico nel periodo estivo che incrementa in maniera considerevole quindi oggi noi dobbiamo confrontarci non solo con i rifiuti dei residenti ma anche soprattutto con quelli dei turisti e non è da sottovalutare le strategie prima si parlava di compostaggio io sono favorevolissimo al compostaggio domestico magari anche perché sostengo che l'impianto lo decidiamo noi dal nostro comportamento cioè non è che esiste l'impianto eccelso per l'antanomasia l'impianto è calibrato rispetto al comportamento di ogni singolo spiego che ho girato tutta l'Italia parte dell'Europa ho visitato tutti gli impianti conosco perfettamente la titolare di Vede Lago che è una mia cara amica quindi voglio dire ho potuto tastare il tasto dell'impiantistica c'è la possibilità di sbizzarirci e trovare tutte le soluzioni di questo appunto ma l'impianto lo dobbiamo calibrare in base al nostro comportamento se noi abbiamo che la metà dei rifiuti che noi produciamo su questo territorio è concentrato il sabato e la domenica nei periodi diciamo estivi e poi soprattutto luglio e agosto giugno luglio e agosto è chiaro che non possiamo immaginare una soluzione di compostaggio domestico al turista che viene giusto per far capire che non esiste l'unica soluzione ma esistono tante soluzioni che bisogna per incassonare una con l'altra e bisogna incassonarle in modo ambientalmente compatibile su questo non ci sono dubbi queste sono le produzioni per i quattro bacini e questo è il dato che insomma mi ha reso fiero in questa conferenza insomma c'era tutta Italia anche parte dell'Europa e ho rappresentato l'efficienza e l'efficacia del sistema di rapporto differenziale c'è Tony e Aloia che si ricorderanno noi siamo partiti con Porta a Porta del 2000 io sono stato dirigente dell'Aiele posso sostenere che grazie anche a una parte del mio contributo la raccolta differenziale si è diffusa su questo territorio e non solo sull'intera provincia e con Vallo abbiamo sperimentato il Porta a Porta tra il primo comune poi via via si sono aggiunti gli altri comuni e quindi questo ha comportato che la situazione oggi della raccolta differenziale in provincia di Sadello arriva a una media del 50% nella nostra realtà questa media se non fosse per il problema estivo sarebbe eccezionale potrei dire saremmo all'80-85% con i residenti ma purtroppo la parte turistica ci fa a passare questo dato e ci porta a un dato molto più vicino al 55-60% che in ogni caso lo ricordavo prima del Claudio è un ottimo risultato non vi sto a spiegare troppi quali sono al termine di questa questa slide poi parleremo del polo della proposta quali sono gli interventi che alla fine di questo dibattito ho proiettato 30 slide quindi devo dire che ne ho fatto un sutto che ai buoni risultati di raccolta differenziata non bisogna dimenticare l'aspetto economico e oggi perché noi possiamo migliorarci sia come raccolta differenziata sia dal punto di vista economico perché abbiamo individuato almeno quali sono le cause che ci fanno incrementare i costi la prima è il costo elevato dello smaltimento della frazione organica oggi l'organico che noi produciamo quando qualche sindaco di qualche comune mi ha chiamato quest'estate disperato non so dove portare l'organico io ho detto sindaco lo devi far compostare nel tuo comune non esiste che un comune di 500 abitanti devi portare il rifiuto a Caltanissetta a Padova è insostenibile il rifiuto oggi costa l'organico circa dalle 150 alle 190 euro a tonnellate che crambolosamente un dato non vi faccio della slide del costo medio in Italia ma in Italia siamo a 50 60 euro a tonnellate nelle altre regioni noi siamo a 100 dai 150 ai 190 euro tant'è vero che se non ci fosse l'obbligo dell'obbligo di raccogliere differenziata molti sindaci farebbero ben volentieri di non raccogliere l'organico l'altro elemento l'incremento dei trascotti noi abbiamo impiantistica delorganizzata abbiamo difficoltà di raggiungere l'impianto e questo è un costo aggiuntivo poi se ci mettiamo pure le file le soste insomma è tutto quello che conoscete insomma vi renderebbe conto di quanto è enorme il costo un incremento degli addetti ai lavori purtroppo negli ultimi dieci anni a causa lo ricordavo anche l'assessore prima dei consorsi che parliamoci chiaro hanno abusato di manovolanza aggiuntiva rispetto a quello che era il banco di far bisogno reale e questo ha comportato un costo insostenibile per molti comuni che tra l'altro prima avevano un servizio fatto da una cooperativa che costava tot euro oppure dallo stesso addetto comunale sono arrivate le società e i consorsi allora si è passata a contratto fise federe ambiente stiamo parlando di costi onerosissimi per il servizio stesso l'ultima una insufficiente politica di incentivazione della riduzione dei rifiuti che è il primo punto da questo punto riparto con le slide poi del buon ecologico perché al primo punto qualcuno ricordava le direttive europee le dirette europee dicono primo come i comandamenti qualcuno ricordava le quattro primo riduciamo i rifiuti il nostro comportamento è tale che riduciamo tutti quanti noi siamo in grado di dire che stiamo facendo una politica di riduzione in casa del rifiuto su questo potrei aprire mille c'è il parco ne approfitto perché è una dell'iniziativa che io da anni cercavo di sostenere era quella di dire non finanziate zagre o attività ludiche o altro se prima non vi garantiscono l'uso di materiali riciclabili non è possibile che si usano ancora i bicchieri di plastica i gatti di plastica quando ci sono ci sono altrettanti piatti e bicchieri che sono fatti in mais e quindi sono biodegradabili no? quello è un punto ma sicuramente il punto devo uscire però adesso con mouse si fa uscire perché devo passare agli altri slide non voglio più parlare di esplori no? il problema è che il computer sta lì perché è solo il mouse allora dicevo primo ok 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 dovrebbe essere qua scusate un attimo presentazione ok allora lasciamo lasciamo gli aspetti quelli che già conoscete la sostenibilità economica sociale che abbiamo detto prima il nostro ambito di riferimento il nostro ambito di riferimento il Cilento anche qui abbiamo preso un'area indicativamente che potesse avere un centro logistico adatto alla percorrenza a tutti i comuni contiamo su circa 195 mila abitanti e una produzione di rifiuti pari a 85 mila tonnellate questo è il dato di partenza dopodiché non ho fatto altro che sviluppare un flusso di come questi rifiuti quindi partendo da 85 mila si a cascata bisogna comportarsi poi con l'impiantistica allora primo abbiamo detto riduzione dei rifiuti in questo caso ho previsto un 5% di riduzione ma va da sé che se noi siamo più bravi a fare questa attività il compostaggio domestico prende più piede noi l'abbiamo tentato con il compostaggio domestico abbiamo distribuito migliaia di compostieri in questi anni ma il risultato devo dire che non è stato eccellente è vero anche che al compostaggio domestico bisogna agire anche con una gestione della compostiera con un controllo periodico e quindi voglio dire va attenzionato l'attività del compostaggio ma è anche vero che poi col tempo non tutti continuano a fare il compostaggio domestico quindi la riduzione ai massimi termini io mi sono trattenuto al 5% ma se riuscissimo ad arrivare al 10% a cascata per beneficeremo tutti quanti anche in termini di costo perché quella è la prima operazione che non crea nessun costo alla collettività ridurre il rifiuto a costo zero quindi più siamo bravi a fare questo più le nostre casse comunali risparmiano dopodiché attraverso i centri di raccolte qualcuno prima ricordava le trasferenze il centro di raccolte è un'invenzione legislativa del 2008 che aiuta tantissimi comuni perché è un centro che può autorizzare realizzare e autorizzare il comune direttamente ed è un punto idealmente utile per il cittadino che va a conferire tutte le frazioni merceologiche e divise compreso anche i pericolosi perché un aspetto da tenere presente in questo piano è l'eliminazione alla fonte di tutto ciò che può inquinare e tra i rifiuti urbani abbiamo qualche cosa che può impensare dal punto di vista impiantistico sono le pire i farmaci l'olio sono una serie di rifiuti che contengono sostanze inquinanti e che quindi possono mettere in crisi il sistema impiantistico a valle il centro di racconta è un momento sul quale il cittadino ha la possibilità di poter conferire ben 44 tipologie di rifiuti diversi e molti di questi diciamo pericolosi il centro di racconta nella misura di almeno uno ogni 10.000 abitanti perché i centri di raccolta possono anche essere intercomunali quindi il primo impianto se vogliamo il centro di raccolta intercomunale con almeno due aree di trasparenza per coprire le distanze maggiori perché meno trasportiamo rifiuti da una zona all'altra anche solo per 50 km meno paghiamo e meno impiniamo raccolta differenziata in questo caso immaginando quindi che il rifiuto un 60% lo ottengo come raccolta differenziata all'interno di quei 60% io ho due frazioni tipiche da raccolta differenziata l'organico che io devo intercettare al massimo livello all'80 se riesco al 90% e questa frazione organica va a un impianto ecologicamente compatibile che è il digestore anaerobico che è semplicemente un impiantino che fa maturare la sostanza organica al suo interno in assenza di ossigeno perciò anaerobico e questo è fondamentale perché aiuta a combattere il discorso del cattivo odore facendo digestare l'organico in un impianto anaerobico io elimio il problema odorifero dopodiché il rifiuto dopo 30 giorni di trattamento e quindi di captazione del gas che si produce metano uno dei gas che si produce viene captato e viene mandato in turbina quindi energia elettrica dopodiché dicevo la parte compostata che si deduce in volume digestata va all'imbiato di compostaggio questa volta aerobico quindi con i problemi di ossigeno diciamo problemi di odori eliminati e la possibilità di fare compost di qualità nello specifico poi farò vedere quale impianto funziona e come secco lo so non dico di accederà però cercherò di essere contenutissimo poi magari mi sarò con qualche domanda secco differenziato secco differenziato l'impianto c'è esiste quello di Vallo Scalo ma va implementato va implementato perché attualmente quell'impianto non è capace di trattare il volume di rifiuti che non immaginiamo di trattare dall'altra parte si è prima parlato del secco indifferenziato questo secco indifferenziato che varrebbe dal 30 al 40% varrebbe trattato prima si è parlato stiamo spagliando di stilus no è un trattamento di selezione perché io da quel rifiuto ho la necessità di ancora tirare fuori della carta del vetro perché rimane nell'indifferenziato tantissimo l'80% dell'indifferenziato è ancora materiale che in qualche modo io posso prelevare solo alla fine di questo circuito io ottengo degli scarti si parlava di Vede Laco la proposta anche qui non facciamo confusione Vede Laco è un impianto che di Veto conosco bene conosco la titolare è un impianto incentrato sulla selezione del multimateriale e riesce a ricoprare al suo interno anche il 98% ma limitatamente al multimateriale e alle frazioni che arrivano qualcuno prima dice Vede Laco fa il 98% del recupero dei rifiuti non è così è una falsa informazione di recupero il 98% ma nell'ambito del suo differenziato non l'organico come diceva prima ma anche altri materiali l'esplosione si fa soltanto per le plastiche per le gomme e per altri materiali industriali alla fine di questo processo l'impiantistica abbiamo detto quindi di gestione aerobico con un relativo compostaggio inviando il trattamento sia per la selezione del cosiddetto imballaggio con AI sia per il trattamento del secco alla fine di questa operazione rimarrebbe un sorvallo che è pari quindi uno scatto che io non riesco ad utilizzare o che potrei neanche industriarmi successivamente di come recuperare ci sono praticamente delle attenzioni particolari sul collo di utilizzare attualmente degli scatti che vanno in discarica rimarrebbe quindi da 85.000 euro di partenza ci ritroveremo alla fine di questo percorso tra i 10 12 13.000 euro di tonnellate di residuale quindi una eccentuale meno del 15% se oggi pensate che in Italia il 70% del rifiuto va in discarica vi renderete conto di quale strategia di quale importanza noi riusciamo a determinare con questo piano ok alcuni impianti che ho preso a riferimento vi ho detto prima ho girato molto in Italia ho cercato di prendere gli esempi più positivi in particolare vedelaco che qualcuno prima ricordava per quanto riguarda l'implementazione di valo scalo immaginiamo con l'estrusione quindi anche di cercare di recuperare quello che è possibile recuperare con la digestione aerobica ho tirato fuori anche ovviamente delle analisi economiche quindi mi sono raffrontato con alcune realtà pubbliche nazionali e internazionali e poi per il CTR e per l'impianto di smaltimento la Peccioli che è la realtà più importante questa è una idea ovviamente ma sono situazioni sindaco sono alcune slide che vogliono individuare quali possono essere alcune soluzioni e infine una realtà esistente che è quella di Binerolo questo è un problema esistente quando si dice che non ci stanno spesso i numeri il consorzio il polo ecologico di Acea Binerolo è in 47 comuni 146.000 abitanti quindi al di sotto di quello che è il nostro potenziale e qui abbiamo concentrato la digestione elopica il trattamento diciamo del compostaggio e della sedizione io ho cercato di concludendo il modello proposto tende a massimizzare la riduzione dei rifiuti quindi ridurre i rifiuti garanzia di un controllo diretto sui rifiuti che è fondamentale che io posso ottenere solo se il rifiuto lo gestisco e lo controllo direttamente cosa eccezionale per il nostro territorio perché quando parliamo di 50-70 comuni controllabili ognuno sa cosa produciamo la qualità del nostro rifiuto e questo è un livello ambientale fondamentale per costruire l'ottimizzazione e la riduzione dei trasporti e la gestione di massime sicurezza tutta l'impiantistica e via dicendo ho fatto anche qualche valutazione economica e per esempio solo per il trasporto giusto come input solo per il trasporto noi andremo a risparmiare quasi 1.700.000 euro andando a quantizzare circa 20 euro al tonnellate il costo del trasferimento attuale e mi sono ottenuto in tutto questo penso di aver dato un'escursione ovviamente pensavo di avere un po' più di tempo a disposizione ma forse è meglio così è meglio aspettare magari le vostre richieste grazie velocemente mi hanno chiesto la parola il sindaco di Berluscuarto di Pondica e di Bagliano due minuti prego grazie io credo dobbiamo valorizzare gli atteggiamenti di responsabilità che sono presenti nell'asservamento a partire da quello del sindaco di Vallo che rispetta un emergente dà la disponibilità a insediare sul proprio territorio un ciclo completo di rifiuti quindi io credo questo sia un grande merito che va dentro a un percorso diciamo di ricerca dell'autonomia del territorio intorno al parco questi sono gli atteggiamenti secondo me più importanti che noi abbiamo qui questa sera ed è questo atteggiamento che poi ci consente di discutere insieme al comitato insieme alla gente che solitamente su queste tematiche non succedono ma chi sta a fare chiedere scusa non è un problema non è un problema lasciamo stare valorizziamo che il 99% della gente sta ragionando sta cercando di capire che cosa vogliamo fare io credo questo sia il dato più importante che noi mettiamo insieme e soprattutto se siamo mettiamo insieme c'è un'assenza di qualsiasi polemica partitica stiamo ragionando in termini di rapporti istituzionali che è la cosa più importante che noi dobbiamo mettere insieme questa sera allora io dico l'autonomia che noi abbiamo rivendicato per il parco partiva soprattutto dalla capacità di questo territorio di sostenere i costi di quello che è lo smaltimento nel suo ciclo completo non era tanto diciamo affermare un'autonomia di vita territoriale che pure per sé è importante ma ragionare rispetto al fatto che in un contesto proieggiato i dati che dava Enzo confermano questa differenza rispetto a quanti rifiuti produciamo alla quantità dei rifiuti dobbiamo partire da questo cioè quindi forse questo è l'atteggiamento più importante che chiaramente in un'assemblea stasera noi dobbiamo dire che cosa vogliamo fare ma la verifica la fattibilità serie come diceva Marcello e come è stato confermato gli altri interventi è la credibilità del piano industriale che vogliamo mettere in piedi questo è allora questo piano industriale non si può fare in un'assemblea questo è l'efforto di tutto allora io dico noi abbiamo la necessità di dare una risposta immediata all'atteggiamento di responsabilità che ci è stata richiesta dalle istituzioni perché noi abbiamo l'obbligo di uscire dall'emergenza le emergenze i commissari hanno portato tutta questa situazione che c'è in Campania diciamoci la verità ma c'è sono i commissariamenti che hanno determinato lo sfascio sulla governo dei rifiuti in Campania contrariamente a questi sono a cui enteggiamento di responsabilità De Luca può essere anche attaccato rispetto al depuratore ma quando nessuno parlava di termorizzatore si è assunto la responsabilità dire con l'amministratore io faccio il depuratore a salere poi sono venuti ad alcune condizioni economiche industriali voglio dire ma ha praticato un livello di responsabilità rispetto al fatto che noi sindaci ci dobbiamo assumere in conto le nostre responsabilità e quando le assumiamo dobbiamo pretendere che gli altri rispettino questa assunzione di responsabilità concretamente io credo che noi dobbiamo valorizzare le cose che la disponibilità del sindaco d'occhio quindi verificare immediatamente se ci sono le condizioni la partibilità tecnica del terreno i carotaggi e così via sull'area individuale secondariamente noi dobbiamo avere il piano industriale terzo dobbiamo ragionare concretamente che significa autonomia quindi significa secondo me che insieme al Comune di Valle la provincia il parco più altri due o tre sindaci si ragiona su quale può essere la forma crecante e amministrativamente percorribile che tenga conto diciamo dell'obiettivo principale che noi ci siamo dati l'identità del territorio ma soprattutto sostenibilità economica di quello che vogliamo fare nel tempo non in fase di emergenza da dopo domani che usciamo con l'impiantistica del parco che cosa siamo in grado di leggere quanto costa perché noi abbiamo l'obbligo di rendere ai nostri cittadini i costi di quello che stiamo cercando di fare grazie al sindaco di Valle 4 e non ci sanno buonasera a tutti molto è stato già detto in parte Gioppino ha anticipato molte delle cose che volevo aggiungere ovviamente cercherò di essere brevissimo e molto poco polemico insurdo a me vista l'esigenza dell'emergenza mi vorrei complimenti a Valle che si sente di darci la sua disponibilità io mi sento di dire che la proposta che avevo conosciuto già giorni addietro mentre si ragionava ancora dei carotaggi giù all'aurito mi sono preso la briga di fare due cose semplicissime cose che forse andavano fatte da parte di tutti quanti di chi ha proposto il sito di l'aurito andare a verificare quanto ci costava fare l'aurito e come si ci arrivava l'aurito questa è una cosa essenziale perché una cosa che condivido moltissimo è la sostenibilità economica una delle telefonate che con Enzo avuta è stata per verificare quanto riusciamo a risparmiare facendo l'impiantistica quanto riusciamo ad investire autonomamente come sindaci e quanto riusciamo ad avere dalle istituzioni sovraordinate per finanziare questi piani perché un altro elemento da non sottovalutare è sicuramente l'intervento dei privati ci deve essere non ci deve essere ne vale la pena siamo disponibili a correre questo rischio questo fa parte di un elemento fondamentale che costituirebbe il presupposto all'autorizzazione amministrativa a realizzare questo sito è il piano di settore menzionato all'interno del regolamento del piano del parco e dico questo perché il piano industriale non è altro che il piano di settore che ci chiede già il regolamento di attuazione del piano del parco le norme di attuazione del piano del parco perché il regolamento di attuazione non ce l'abbiamo ancora le norme del piano del parco ci chiedono già il piano di settore detto questo significa che sostanzialmente è inutile continuare a fare dietrologie e dire il commissario è stato nominato ha poteri non ha poteri l'ha nominato chi non l'ha nominato chi io so soltanto una cosa che nell'estate scorsa quando in Parlamento è stato depositato un emendamento con il quale si chiedeva l'autonomia gestionale del Cilento ma diciamo è stato non è poco apprezzato il dire poco è stato per niente capito quando si è presentato quell'emendamento si chiedeva semplicemente di ascoltare i sindaci perché i sindaci stavano già lavorando ad un'ipotesi tecnica fattibile e soprattutto non orientata alla creazione di altri centri di potere perché non è proposta a tutti stiamo facendo una polemica sterile ma non sto facendo una polemica sterile che non è proposta assessore scusami però ti devo chiedere una cortesia tu sei venuto qui non con una polemica sterile Marcello perché tu sei venuto qui guarda il tuo presidente è informatissimo di quello che chiedevamo il tuo presidente è informatissimo Marcello guarda io una cosa che ho detto a Tony se stasera l'assemblea avesse avuto a disposizione immediatamente l'intervento di Enzo Chiera io mi sarei risparmiato di parlare l'ho fatto in questi giorni io sono stato no non te lo posso assicurare sono stato al sito della discarica il primo giorno dovevamo cominciare le rivelazioni sono stato in un angolo non mi sono permesso né di aprire bocca né di fare né di rilasciare riazioni né tanto meno di esprimere giudizi su altri me ne sono stato nel mio cantuccio a vedere quello che succedeva pensando tecnicamente a come poter risolvere però non accetto non accetto che poi mi si viene a dire che la responsabilità è dei sindaci la dimostrazione che non avevano fatto proposte a fianco a me sentivo dire no anche a luglio è stata fatta qualche proposta ma non c'è zicco questo andiamo oltre andiamo oltre quindi oltre ad approvare oltre ad approvare la proposta di stasera io mi sento di dire di andare oltre e proporre già di procedere subito con l'individuazione di un nucleo tecnico che reddiva il piano di settore per il parco del ciclo dei rifiuti in modo da avere un documento con greco economicamente sostenibile con il quale noi possiamo dire signori miei il cilento per l'ennesima volta dimostra che se viene ascoltato ce la fa da solo grazie buonasera a tutti io un po' sono stato anticipato da Stefano Pisano e Cepino Paregno in sostanza io ho visto che sono fatte le otto e mezza volevo capire al di là di tutto quello che è stato detto che è tutto valido al di là di ringraziare Tonia Loia che ha messo in mente a disposizione un territorio per risolvere i problemi del cilento e al di là di tutte quante le cose che sono state dette particolarmente è stato utile il dottor Chiera perché ci ha fatto capire un poco i dati che sfuggono un poco a noi sindaci perché ognuno sa i suoi ma sostanzialmente nessuno sa poi i globali io volevo siccome noi stasera siamo tutti quanti d'accordo da quello che ho capito sul firmare questo documento e portarlo avanti però volevo focalizzare l'attenzione dei presenti e particolarmente di coloro i quali sono stati più direttamente interessati a questa cosa volevo capire in termini un poco più pratici e quantitativi il piano industriale perché il fulcro del ragionamento gira indorno al piano industriale che quello che ci darà cognizione e anche convinzione di andare a fare questa scelta perché come diceva qualcuno dobbiamo rendere conto ai cittadini di quello che facciamo quindi in parte sono perfettamente d'accordo nel vedere di fare il più generalmente possibile nominare dei tecnici un comitato qualche cosa che serva a progettare che comunque il piano industriale è un progetto che si può fare e da farci capire tecnicamente come si svilupperà questa è una cosa la seconda cosa ripeto su cui richiamo l'attenzione dei presenti ed è fondamentale è l'autonomia del subfanto perché non serve solo per il rifiuto di questa autonomia è peccato che non è stata non è stata non è stato possibile farlo anche per l'asta però con i tempi che con i tempi attuali con quello che sta succedendo a livello nazionale con le province che dovrebbero scomparire con le comunità montane che qua sicuramente saranno in casa ecco io ritengo fondamentale partire su un ragionamento di subambito e di autonomia e tale da poter poi carlo anche in altri servizi e in altre cose grazie a tutti allora ringrazio il sindaco che parliamo prima di passare alla conclusione del sindaco cioè del presidente del parco amico e troiano se vediamo un po' come ho chiesto il pubblico di confermela intervento prego il sindaco di centro no è un tuo diritto perché no 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 perché arriva anche perché ho un prossimo rispetto dell'area vi ringrazio naturalmente in questo contesto abbastanza articolato io ho apprezzato moltissimo le relazioni del commissario Alcolisa e ancora di più la relazione dell'ingegnere chi era che peraltro aveva avuto il modo di leggere qualche giorno fa dopo l'incontro avuto a Vallo della Lucania promosso dal sindaco di Vallo devo dire che sembra a prima vista dopo la generosa la generosità espressa dal sindaco di Vallo che tutto sia liscio invece credo che qualche notazione bisogna farla perché noi siamo qua stasera perché all'ordine del giorno è reiscritto il problema della discarica di la unito ed è su questo che credo come primo momento dobbiamo esprimerci rispetto a questo argomento che io credo di avere espresso il mio punto di vista in maniera molto chiara sono stato assolutamente contrario a che questa ipotesi potesse avere realizzazione e ho anche non lo ripeto qua per non detiare riportato i motivi per i quali mi sono espresso relativamente e principalmente il dato principale che è stato anche richiamato questo è un'area protetta questo è parco c'è una legge che consente alcune cose che ne vieta altre naturalmente questa sera è emersa la possibilità di una soluzione alternativa prima di andare a valutare la soluzione alternativa io ritengo che dobbiamo esprimerci confermando quella che è la posizione assunta a valutare da Lucani per quanto attiene la situazione della ipotesi riferita all'Aurigo cioè l'assoluta contrarietà e per come dire legittimare questa posizione per renderla più come dire legittimabile diciamoli in questi termini io propongo di coinvolgere formalmente gli organi politici e tecnici del parco che istituzionalmente hanno le competenze della salvaguardia del patrimonio ambientale di coinvolgere formalmente la 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 benedetta dunque la sovrintendenza ai beni ambientali che ovviamente opera costantemente per limitare le iniziative dei cittadini e dei sindici e degli amministratori di coinvolgere di allertare la procura della Repubblica perché quella iniziativa adombra addirittura l'ipotesi di un reato questo è il mio punto di vista ma anche di allertare le associazioni ambientaliste che intervengono per determinate iniziative trascurandone altre e quando attiene poi la proposta espressa dal sindaco di Valle io l'apprezzo moltissimo perché non è un vatto pericolino anzi è una proposta che risolve la questione di Laurito ma risolverebbe se non ci fosse qualche neo anche la questione del Cileno è stato dal direttore del parco chiaramente anche riferito che nell'ATR è prevista espressamente mi è perso di capire dunque il compostaggio ma non solo mi pare di ricordare che sono previste delle micro discariche però per l'utilizzo dei piuti in maniera diciamo così quotidiana non non destinati a rimanere per lesi operani nell'ambito della discarica stessa comunque la proposta che è stata fatta credo che sia degna di approfondimento per le implicazioni che sono state in un qualche modo adombrate anche dall'assessore Feola per le cose che ha detto e anche per quelle che non ha detto e che si possono vaccinare allora noi siamo amministrazioni locali sulle quali imbombono le responsabilità di una valutazione approfondita per le conseguenze alle quali possiamo avere sono conseguenze di ordine economico sociale politica sì ma queste ci riguardano entro certi limiti può riguardare la politica in generale ma non la politica partidica almeno per me che parlo in questo momento allora io che cosa propongo questa proposta degna di essere approfondita in tutte le sue implicazioni deve essere portata avanti nella maniera più approfondita possibile con qualche integrazione rispetto alle cose che questa sera noi abbiamo apprese nel frattempo però mettiamo in sicurezza la prospettiva della discarica dell'audito allora io volevo fare un attimo di sinnessi perché se no la cosa la dimuntiamo all'infinito allora facciamo questa proposta che praticamente prevede che l'audito no perché in contropartita l'audito noi offriamo il sito di Vado Dallucani dove no 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 sindaco sindaco il sito di Vado Dallucani è il quadro Dallucani limpia artistica allora riportando riportando Tony riportando la proposta che già abbiamo fatto nell'altra seduta a Vado Dallucani mettiamo questa proposta ai voti e diciamo che praticamente svilupperemo poi il piano industriale facendo vomitato ristretto le sindaci ci affiancheremo alle strutture del consorzio eventualmente del parco per accompagnare poi ulteriormente questa proposta con un piano industriale facciamo una sindasi perché se no alla fine ci riferisco allora un attimo allora chiesto la parola prima Peppe Piterale poi Carlo e poi le conclusioni del Presidente allora un'unica notazione io sono d'accordo fino all'area ecologica di compostaggio per quando attiene la problematica della discarica che dovrà ospitare o 44.000 o 13.000 tonnellate io mi chiedo perché il Commissario visto che noi siamo ormai governati dai Commissari non crea nell'ambito della Piana del Seri una discarica più ampia che sia destinata a avere praticamente anche i rifiuti del Cede se tutti noi ricadono tanti vingoli ma perché dobbiamo essere obberati anche da quest'altro ma perché non è andato a procurare Romanevi per favore allora poi il Commissario poi il puglio della Carlo per i sindici e poi le conclusioni al Presidente e poi Gregorio illustrerà la proposta e metteremo i voti chi è il favorevole chi è il contrario a questo e chi si iscrive prego grazie grazie per avervi fatto intervento due cose piccole prima di dibattire la mia collocazione sulla proposta e ringraziare Dona Roia per la sua responsabilità dimostrata vecchi amministratori infatti volevo solo aggiungere che la raccolta differenziata è partita insieme lo franno forse prima lo franno e poi va ma è solo un dato storico volevo chiedere a Chiera volevo chiedere a Chiera dottore Chiera che non vedo più allora lo chiedo al Commissario forse il dato me lo potrà allora il sindaco di Vallo rispetto all'altra volta ha chiarito praticamente che questa disponibilità cia c'era 20 giorni fa ha chiarito quale diciamo la disponibilità dell'amministrazione di Vallo su quello che poi è il rifiuto residuato diciamo il bio stabilizzato che dovrebbe uscire e ha parlato di 30-40 mila metri cubi allora la domanda è questa metri cubi è esaustiva per il subabito che noi chiediamo esaustiva allora benissimo se è esaustiva il discorso secondo me è chiuso noi alla proposta che è stata fatta a Vallo dobbiamo solo aggiungere questo dato va bene va bene allora io dico che se la proposta è esaustiva il discorso è chiuso per me rimane sempre ecco questa è la proposta che io voglio fare all'assemblea valida quel documento che molti sindaci hanno sottoscritto a Vallo per favore facciamo concludere molti sindaci hanno sottoscritto a Vallo e che praticamente mette come costilla principale il subambito ricadente sul territorio del Parco perché l'autonomia secondo me è la cosa fondamentale che porta tutti i best appresso poi fermo restando gli approfondimenti tecnici con il piano industriale quello che ha detto Geppino è stato ribadito da Stefano eccetera che viene dopo è fondamentale fuori discussione però io penso che la proposta politica debba essere questa ed è questa poi subito avviare quello che diceva l'assessore i carotaggi sul callo della locale avete poi il discorso in chiuso e penso che Vardè possa andare avanti poi sull'individuazione grazie a Beppe Liderale e a Filippo per la discussione per la discussione di questa proposta alternativa ovviamente capirete il perché quindi noi mi ha anticipato il dottore Gumbucci ovviamente vogliamo ribadire la contrarietà nel documento alla discarica all'aurito come già è stata fatta nell'assemblea a parola locale per una serie di motivazioni noi stiamo portando avanti la nostra comunicazione legale amministrativa abbiamo fatto già due ricorsi vanno in discussione il 19 gennaio uno contro la nomina del perfetto parte del commissario e un altro contro l'ordinanza collettiva di accesso sui siti e abbiamo ribadito che quell'area anche se è area contigua al parco è un'area boscata e le aree boscate rappresentano un parametro un parametro escludente nella individuazione dei siti quindi ho la tabella che stesso rappresenta il ciliello ha inviato ai sindici in questo famoso orgoglio dove le aree boscate sono considerate un motivo escludente per la individuazione dei siti nonostante ciò guardate e io l'ho detto anche l'altra sera a Salerno comunque per non allungare noi vogliamo esprimere la nostra mononialità ma quello che voglio fare stasera è quello rispondere al concursione abbiamo già coinvolto il parco il corpo forestale dello Stato con il momento di quella che è arrivata noi abbiamo mandato anche i documenti è venuto l'altra mattina il presidente elettoriano accompagnato da un incigliere Sileo a fare una verifica sul posto ed è se è tornato scandalizzato perché è un'area boscata e ci ha suggerito anche addirittura di procedere e con il consigliere di vederanza la loro speranza abbiamo risposto già una ordinanza di sospensione nel caso in cui dovessero ripresentarsi voglio comunque ringraziare per questa serata il sindaco di Varna innanzitutto per la sua generosità e disponibilità per la che comunque come diceva prima Giofino Valente ha assunto la responsabilità di creare questo polo ecologico che ha fatto la Rucani che comprende anche il sito di stoccaggio smartimento per rispondere a Romanelli per la durata dei 4 anni sperando che si faccia questo tempo con l'organizzatore nel frattempo però dobbiamo avviare come diceva Chiero questa in prospettiva voglio dire ragazzi del comitato vi ringrazio perché effettivamente hanno senso imprezzato tutto il territorio comprensore non solo mezza Italia per questa problematica dei rifiuti però in prospettiva ne possiamo raggiungere una deduzione dei rifiuti penso tutti quanti noi vorremmo un rifiuto serio però al momento non è possibile dobbiamo avviare un percorso di disabilizzazione di educazione ambientale per arrivare a questo obiettivo per cui voglio ringraziare tutti quanti dall'assessore Ferro l'altra sera dopo me a Salerno ci siamo anche ingazzati passatemi il termine col prefetto e col questore perché abbiamo chiesto un'insistenza di sovrassate per una pausa di riflessione che c'era questa assemblea dei sindici e loro alla fine si sono riuniti in una stanza a parte i prefetti quest'ora insieme a Sussurio Fevo e sono usciti dicendo aspettiamo una vostra proposta alternativa che verrà valutata e qui la provincia ovviamente che se la provincia valuta questa proposta deve indicare a parte di chiudere questa ricerca quindi su questo siamo stati chiari per cui voglio ringraziare la provincia per l'apertura politica che ha dato a questa proposta alternativa il Presidente Troiano che comunque c'è vicino già si è pronunciato in modo chiaro quello non è questa proposta e ringraziare ovviamente tutti i sindici che mi sono stati vicini in questo periodo e la loro presenza è qui testimoni di questa solidarietà e di raggiungere questo obiettivo vi ringrazio e scusate e scusate fallo si candida a dire in alternativa alla discarica proposta noi diciamo che si può lavorare in rifiuto in maniera diversa quindi volo ecologico lo sindaco tagge tutto il reso attenzione condizio si riqua non e lo devo ribadire e l'autonomia è gestionale se no tutto il progetto non c'è chiariamocelo in maniera in maniera proprio no però è meglio che questo venga ribadito in maniera schematica se a scanso di equivoci beh a scanso di equivoci che poi questa diciamo fossa di scarica chiamatela di scarica ma io non la chiamo di scarica questo sito di come abbiamo detto di smaltimento non debba essere al di sopra dei 30.000 40.000 tonnellate io sono uno sono disponibilissimo come la mia amministrazione però sono preciso nelle cose che dico quindi tutta la mano a tutto il territorio ma che non si vada al di là di queste che sono condizioni essenziali ma innanzitutto l'autonomia gestionale perché se salta l'autonomia gestionale il progetto salta mi sembra chiaro eh io penso che le ultime parole del sindaco loro devono essere di far parte del corpo dell'atto deliberativo che poi i sindaci dovranno votare beh io voglio iniziare il mio brevissimo intervento perché oramai avete detto di tutto e di più dicendo è meno male che il parco c'è è meno male che il parco c'è perché io questa vicenda ce l'ho vissuta fin quando l'ho evitata fin quando ho potuto in un'altra mia esperienza perché guardate e io vi faccio i complimenti ai cittadini al comitato a tutto quello che si è creato ma soprattutto ai sindaci alla provincia di Salerno che si è seduta insieme a noi insieme ai sindaci e hanno convinto ieri aspettavamo le trivelle aspettavamo la fine del mondo di Laurito non è successo niente non è successo niente perché con forza abbiamo inventato un messaggio forte e chiaro siamo in grado di fare una proposta alternativa alla discanica di Laurito rivendicando l'autonomia del parco anche in questo poi teniamo la partita dell'autonomia energetica e quant'altro che sta procedendo bene poi e quindi abbiamo la possibilità di dare forza a un dettato della legge che è la 394 99 che è il piano del parco il piano del parco prevede che nel parco venire a un lico non si possono aprire e ampliare le scariche a meno che non sia dovreste un piano di settore allora a chi sta verbalizzando io voglio dire che questa proposta di stasera diventa la prima proposta di piano di settore del parco che i sindaci fanno al parco che tutti i sindaci voi fanno al parco perché abbiamo in alcuni momenti abbiamo dei ruoli diversi la cura del parco a un ruolo e il consiglio di rettivo del parco a un ruolo voglio ringraziare il dottore Carone dal mare che è stato là a lui e il vicepresidente che stiamo qua tutti quanti insieme per ascoltare la proposta che viene dal territorio e diventerà la proposta del consiglio di rettivo del parco quindi io domani insieme all'assessore Ferro immagino anche all'assessore Fasili andremo dal congressario a dire quello che è successo stasera a portargli il documento di quello che è successo stasera ed aprire il tavolo serio che poi si apre il tavolo serio dell'autonomia della fattibilità con oltre tre cose che avete detto quindi complimenti a voi perché un territorio così serio va dato alto anche perché vi voglio dire che in altre aree protette non lontane da qua parco nazionale area SIC area SvPS ci stanno a riscaldare quindi la forza nostra e bene sono le leggi ma a parte le leggi sono le proposte che devono essere fattibili concrete sia dal punto di vista ambientale perché noi abbiamo sempre il dovere di tornare il paesaggio un ambiente della natura che università e specie animale vegetale che non lo abita vi ho detto quasi tutto abbiamo anche la consapevolezza di assumere la responsabilità e stasera ci stiamo obbligando una grande responsabilità insieme a noi la partiamo a lei grazie da quanto è emesso sembra almeno questa è la proposta della delibera che dovremmo votare se tutti siamo d'accordo oppure se qualcuno la vuole inventare cioè che in alternativa alla discarica di Laurito si propone come comunità del parco e qui come entità di tutti i sindaci del CIMEN il polo ecologico di Valla della Lucania di cui alla proposta che brevemente ci ha illustrato prima il commissario e poi Enzo Chira che allegheremo alla delibera di stabilire in questo deliberato che è da considerare condizione essenziale alla proposta di cui al punto precedente il preventivo formale riconoscimento dell'autonomia amministrativa e gestionale questo è il secondo punto terzo punto che pur è importante ai fini autorizzativi per questo polo ecologico è quello di considerare quale prima proposta di piano di settore previsto dal piano del parco inoltre di stabilire che ogni tipo di iniziativa dovrà prevedere il coinvolgimento attivo dell'ente parco e infine di trasmettere la presenza delibre che ovviamente dichiareremo immediatamente esecutivo se saremo d'accordo al commissario Mardin e all'ente parco per le valutazioni di rispettiva competenza e al presidente della provincia chiedo scusa se siamo d'accordo questa è la sintesi della proposta se la siamo scusate si può migliorare scusate ma si presenta il documento che a noi si parla un po' di io direi di riparire pure la decisa con la realizzazione della discarica ma io credo che noi proponiamo in alternativa qualcosa che sembra superato cioè oramai la questione di Laurito è archiviata noi in alternativa da quella ma vogliamo chiedo scusa mi chiedono di rileggere il secondo punto il secondo punto è questo assessore buon io ho formulato una proposta tenendo conto di tutte le varie sì, stabilire che è in condizione essenziale la proposta di cui al punto precedente cioè l'alternativa del polo ecologico di Vallo della Lutagna alla discarica di Laurito il preventivo formale riconoscimento dell'autonomia amministrativa e gestionale allora cambiamo il contestuale riconoscimento dell'autonomia amministrativa e gestionale credete che non ci sono difficoltà da questo punto di vista poi stabilire che ogni tipo di iniziativa dovrà prevedere allora stabilire che la proposta definitiva dovrà essere Romano, chiedo scusa è un patto ambientale quindi già è strutturato per qualsiasi cosa che riguardi i rifiuti acquedotti eccetera deve essere l'intestatario delle procedure di attuazione quindi già esiste questo patto ambientale si chiama approvato è un qualcosa di di molto aleatorio non trova di scontro mentre in una delibera di cui lo diciamo per favore allora attualmente siamo adesso come al solito in fase finale siamo allora facciamo questa cosa nel frattempo 5 minuti di sospensione un attimo no lo sospendiamo attenzione scrive nel momento in cui mettiamo questa nota a posto poi la leggiamo e la bochiamo ciao non ho capito per favore per favore se voi legate se è vero di un'alternativa però bisogna chiarite che questo diciamo il no secco e preliminare per i motivi che sono stati detti a questa distanza e che se voi la legate all'autonomia che è un patto di trattativa politica viene meno che cavolo fate tornate sulla discarica di da un cioè bisogna di singure due cose la carrozzina deve essere il no cioè si impatisce il no alla discarica e la discarica e la discarica di un'alternativa del parco così che si fa parte la proposta per favore allora io voglio un microfono avete il microfono c'è un microfono in via nella stanza allora scusi io penso che questo punto sia essenziale sono d'accordo ho detto l'opera che parla insieme alla prima dell'alternativa la dichiarazione di opposizione alla discarica di un'alternativa e qualsiasi altro discarica del parco del parco perché il punto lo dà perché noi diciamo a questo stiamo per realizzare un progetto di cipo indedrato non per accettare una discarica dell'alternativa guardate questo è un punto da rimettere la forma è sostanziale noi in questo momento noi Tony scusa credo che tu sei d'accordo con il punto noi in questo momento diciamo prima no opposizione alla discarica del parco e qualsiasi altro discarico del parco perché diciamo che il punto che diventa è che noi non poniamo l'alternativa di una discarica di un'altra discarica noi poniamo come alternative al modello tradizionale della discarica un po' e non è stato detto dalla proposta no ma noi che si tradisce l'alternativa è che si deve fare un po' non soltanto la discarica ma no dalla proposta aggiungendo aggiungendo a quella proposta che avevamo fatto con un altro punto di investire l'entenario in concerto con gli altri enti del settore e naturalmente con il comune di Vallo della Lucania il compito di collaborare nell'ambito dello specifico piano di settore il piano industriale del suddetto polo-ecologico questa è la proposta presidente allora ci sono evidentemente allora per favore io ho detto iscrivere bene la proposta di legge ma non è che volevo sospendere volevo mettere a o allora allora legge l'ultima parte e poi mettiamo votazione in alternativa la discarica guarda per favore allora che cosa non va prego ma non è che interrompido va allora 20 prima di garazione di opposizione alla discarica di Laurita a qualsiasi discarica nell'area pari e le alternative il polo-ecologico devono allocare col cibo compenuto e detrale sbatterebbe il filo in modo che voglio dire il concetto centrale facciamo una discarica alternativa ad un'altra discarica siamo contrari alla discarica e chiamo un'altra e chiamo 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 si può viare romano si può viare quello che diceva il giudice come lo faccio è stato che? si è stato un buon scusate ai misogianti cosa mi ha tenuto non lo so per favore un attimo un attimo prego romano allora in alternativa alla discarica di la urina il volo ecologico di vallo della locale di sostituire scusate questa è una proposta che stavo facendo io ma chi si trova d'accordo su questa una volta la vota chi non si trova d'accordo non la vota ma scusate sostituire o in alternativa in italiano cosa dici sembra che se viene bocciata la proposta si torna un'altra volta sulla discarica è una proposta che è è l'unione che si voti è l'unione è l'unione è l'unione scusate scusate ma se non è tipo opposizione di città che non c'è l'unione di tonità di amore come stiamo al conmento non lo siamo non lo siamo non lo siamo non lo siamo se non lo siamo un'altra di città e non lo siamo che si va a dire che si è è la tua ha la volta in alternativa Noi proponiamo questo progetto del polo ecologico di Pagolo della Puglia, che è in condizione l'autonomia amministrativa e gestionale che deve essere contestuale a questo. Questa è una prima proposta di piano di settore del Piano del Parco. E poi ci dobbiamo venire a parlare, scusate. Di investire, lei ne parla di concerto con gli altri enti del settore e con il comune di Pagolo della Lugania del compito di elaborare uno specifico piano industriale di questo polo ecologico. E' nata cosa, è nata cosa, è nata, sono due aspetti diversi, sono due aspetti diversi. e stabilire che l'endeparco dovrà essere coinvolto come un soggetto in ogni tipo di iniziativa che vede questa cosa. Questa è la proposta. Se siamo d'accordo, votiamo. Allora chiedo scusa, adesso che siamo proprio nella dirittura finale, c'è piena libertà, si vota, chi si astiene a questa proposta, chi si astiene? Chi è contrato? Allora, Presidente, mi hanno chiesto di rileggere una quest'arco. Se mi puoi fare la cortesia romana, me la puoi rileggere così. Allora, attenzione, romana, visto che la gran parte dell'assemblea Rofrano e altri sindaci mi hanno chiesto questa direttura, se la puoi fare. No, 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 niente, voglio solo precisare due cose. Tutte queste precisazioni... Grazie. Se avete visto questa precisazione su un ruolo del banco, ci lo faremo a me stesso, a mettere dall'ambiente di me, per fare a me, no? E' quella della, diciamo, della premessa, vista di questa produzione, quella della premessa di un'edificio sensuale, che la discarica non debba essere comunque realizzata, secondo me, no, che sì. Sì. Bravo. Questo volevo dire. Bravo. L'alternativa, qualche equivoco lo crea. Allora, l'assemblea è pronta per la votazione. Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. precedente, il contestuale riconoscimento dell'autonomia amministrativa e gestionale considerare la presente quale prima proposta di piano di settore previsto dal piano del parco amministrativa e gestionale amministrativa e gestionale e finanziaria considerare la presente scusate che ha proposto che voglio io la voglio fare allora, eliminiamo questo aspetto di quale prima proposta del piano di settore investire l'edeparco di concerto con gli altri enti del settore, del comune di Vallo e della Locale del comito di elaborare uno specifico piano industriale io vorrei questo terzo punto di investire l'edeparco di concerto con gli altri enti del comito di elaborare l'anno specifico piano di settore il piano industriale in elenco per raggiungere pure dalla comunità del parco allora che la comunità del parco possa proporre una condizione scusate ma potremmo aggiungere la comunità del parco del parco Noi abbiamo detto investire l'ende parco, l'ende parco è l'ende, e sono 5 organi, c'è l'ende e c'è la comunità del parco, la comunità del parco è l'organo dell'ende parco, l'ende parco ha 5 organi, un consiglio, un presidente, un camion, i soldi, ma possiamo mettere la comunità dei sindaci in parco? C'è una parola grave, ma è una parola grave. Ma ha detto il dottor Dobucci, ci sono le commissioni che hanno lavorato in Italia, su live specifici, che sono state fatte dalla comunità dei sindaci del parco, e la comunità del parco? Mi sembrava, come dire, l'ende parco è in tutte le sue configurazioni. Ma evidentemente la comunità del parco ha la possibilità di fare delle commissioni, ma la commissione è finissima. Ma la commissione è finissima. Allora, la commissione è fatta. Va bene, allora, stabilire che l'ende parco sia coinvolto in qualsiasi tipo di iniziativa che riguarda la commissione. Allora, siamo pronti per la votazione? Sì, 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 sì. Va bene, 30 giorni. Dai, 30 giorni, va bene? Sì, 30 giorni. Siamo arrivati a tutti. Sì, sì. 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 Siamo tutti pronti per la votazione? Siamo in declarazione di U Allora chi è contrario? Chi è astenuto? La vota votiamo anche per l'esimitività Va bene, allora vi ringrazio tutti per questa Grazie Grazie Corona No, ma con che s'essi? Non c'è su Buon norіл Ragai manca che sa tu che cosa ce la prendi trovo Sono mi schietto maga のは abbob興 Il ringrazio è going non ti vasco a fare No Si se volete così Ma che questi precedenti è leider A molto ftenata io vedo un sacco, in maniera che da quando la proposta di voce, volevo, volevo, volevo passare tutti che si dicevano del palco, di cui, a che vuole rispetto, e soprattutto come si dicevano, che ne pieni, avete danno, al presidio non è finito, al presidio non è finito. Grazie.